Buon pomeriggio ragazze, benvenute in questa nuova diretta di Morbidi Passi, vai con la sigla! Buon pomeriggio ragazze, benvenute in questa nuova puntata di Morbidi Passi, ciao Silvia, corazon! Sono le 4 e già il momento, in modo a curvi abbigliamento Noi vi terremo compagnia, dirette di pura follia Consiglia di Morbidi Passi, e di Deniz, sono tutti passi Voi rimarrete soddisfatti, noi siamo la Gabbia di Marti E quando ti guardo, io voglio comprarmi un'altra puntata di Bambostia da Inversar E se continui di portare sognare, la più fortuna sta a finire E se tu sei nuova, devi registrar il nome e cognome sul nostro WhatsApp Sono semplici passi per iniziare, da Morbidi Passi a comprare Morbidi Passi, moda curvi Qui noi ti offriamo solo curvi Perché sei bella con le curvi Stravagante donna curvi Morbidi Passi, moda curvi Qui noi ti offriamo solo curvi Se il mio amore è di una curvi Affascinantemente curvi E quando ti guardo, io voglio comprarmi Con tante proposte da indossarmi Senza i condividi, oppure sognarmi Fortunata vincerà E se tu sei nuova, devi registrar il nome e cognome sul nostro WhatsApp Sono semplici passi per iniziare, da Morbidi Passi a comprare Eccoci qua ragazze, benvenute Ciao Pat, Laura, Barbara e tutte Emanuela e tutte le ragazze connesse in questo momento Instagram, Facebook Vi ricordo il contest di oggi meraviglioso Imperdibile Solo per condividere ragazze vincerete questo meraviglioso outfit Vai descrivilo Casacca, collana abbinata e pantalone prissi bianco Meraviglioso, vestibilità comoda Quindi per chiunque, chiunque vincesse Va sicuramente più che bene Perché io credo una vestibilità grossomodo Fino alla 56 abbondante, giusto? Non mi correggi? Perfetto No, non ti voglio correggere Non mi voglio correggere Ma perché dai, cominciamo la... È perché hai detto giusto Facciamo un bel litigio di prima diretta Così inizio così Subito Allora, cercasi modella curvi puntuale Sì, 2.0 vuole Che se ha legge e scrivere Non c'è stato No, non c'è stato Inizio oggi non c'è Se tu avessi detto Se tu avessi detto vestibilità fino alla 50 Io mi sarei alzata e ti avrei picchiato Addirittura E ti dicevo 52? Eh, te penavo Oh, mamma mia Vabbè, allora... Vessibilità 56 abbondante Com'è Lisa nuova canzone? Non hai... Non hai... Non hai... Attenzione, stiamo perdendo del nido Io ho appena detto che non c'eri Per vedere che cosa dicevano i nostri amici Che tu a momenti caschi per terra E tra un po' mi... Con le ciabatte Tor... ciabatte In italiano Ciabatte No, 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 senti Mi è stato addobbato Arcola Ma perché ti devo toccare le tue cose? Vediamo, vediamo Perché... Senti se ridi Che senti? Qua... Stai schioppando? Stai schioppando 2 Carlo Corri, metti subito l'annuncio della modella nuova Che se schioppa Ma almeno ci siamo subito organizzati Sana? Sana di mente? Di cuore? Ok, avevo detto di cominciare in modo... Come vedete Così c'è il problema dei maglietti Ma smetti che siamo in inizio diretta Già di queste cose Già l'algoritmo ci blocca Già ci blocca Zucca e Margari Cominciamo con una certa discrezione Un pochino di... Un po' di classe Allora ragazzi Ragazzi è stato un piacere Porto via anche il contest di oggi Perché veramente Guarda se partiamo con... L'ho vinto Ma come ho vinto io? Prima fatta per me che ho vinto io Ma mannaggia Ragazzi comunque Questa per chi non ci conoscesse È la gabbia di matti L'originale L'originale Ma sicuramente l'avete già intuito 2 punti... Smetti di parlarmi sopra Vabbè ma non si può cominciare la prima diretta Sì, ti sei tagliato i capelli? Eh? Ti sei tagliato i capelli? No, non ho tagliato nulla Hai fatto il colore? Non ho fatto niente il colore Che hai fatto? Vabbè Ma non smetti di dire queste cose in diretta Alessandra Palazzo eh Oddio mi sei chiusa la diretta Guarda persino Zuckerberg Se hai rifiutato hai detto Basta queste... Queste vanno meglio Belli pantaloni di Denise dicono? Cosa? Belli pantaloni di Denise Eh... Sì, mi fa piacere Grazie Se vi mando il cerchiato di sana e robusta costituzione posso venire io Sul via Giacoglia No, 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 attenzione Tu devi mandare quello di non sana e robusta costituzione ma soprattutto non sana a livello mentale Se no non puoi far parte di questa cabbie animati perché qua sono psicopatici, schizofrenici e situazioni di questo genere Infatti la maggior parte dei nostri clienti come sono? Infermiere, medici Perché hanno capito che insomma c'è un certo problema in questo negozio Vabbè, comunque noi come al solito già dieci minuti a dire stupidaggini abbiamo persi Già stanno condividendo Io non riesco a riaprire la... ecco, ok, adesso ci sono riuscita Ma ti devi per forza vedere? Eh, devo leggere i messaggi, sennò voi mi raccontate un sacco di fesserie Vai con le preghiere Ciao cabbie di me, Denise, Silvia, Carlo, Tiziana Lucia ti sei dimenticato di... Amalita, Amalita È Maira, è Maira Ok, ci siamo, dai siamo quasi 200 persone Allora ragazze scusate le stupidaggini Ma noi se non cominciamo in questa maniera così Sembra che non siamo contenti Specialmente il martedì che dovrebbe essere la diretta più seria Invece partiamo già malissimo Comunque ragazze, benvenute a tutte Prima diretta della settimana Vi ricordo che le dirette sono tutte martedì, mercoledì e giovedì Sempre a questo orario ore 16 Con tutta la compagnia al completo purtroppo Sessorigno Anche la cui presente modella Chiamasi Denise Vabbè, comunque, noi siamo quelli di Morbi di Passi Alias Gabbia di Matti E poi scoprirete perché, anzi secondo me già l'avete capito Ci troviamo con il nostro punto vendita Ad aprilia In via Giuseppe Verdi numero 69 Madonna ma non ti ha detto così che io non mi sono impressionata Sì, Morbi di Passi ad aprilia in via Giuseppe Verdi 69 Salvo infarti via provincia di Latina, vicino Roma Ma, donna però, non c'è così è brutta la settimana Comunque, vabbè Allora, ci occupiamo di taglie forti Vale a dire dalla 46, 48 Alla 58, 60 Sì, mi brava In negozio troverete anche la nostra linea small Vale a dire dalla taglia S alla taglia XL Quindi, circa dalla 40 alla 46, 48 Per poter acquistare in questa diretta Diretta, che è una diretta di vendita È molto semplice La prima cosa da fare È quella di registrarvi al nostro numero WhatsApp Che trovate qui dietro alle mie spalle 338 2321 430 Registrarvi cosa significa? Semplicemente scriverci il vostro nome e cognome Se avete un nomignolo su Facebook o su Instagram Scrivete, tra parentesi, anche quello In modo che non vi possiamo contattare Una volta fatto ciò Potete, con tutta tranquillità Fare i vostri acquisti durante la diretta Tutta tranquillità, poi è un parolone Comunque, potete fare i vostri acquisti durante la diretta In tutta tranquillità ce n'è poca Allora, modalità e costi Per quanto riguarda le spedizioni Allora, facciamo spedizioni in tutta Italia Anche all'estero Parliamo dell'Italia Italia, isole comprese Il costo della spedizione è di 6 euro Con pagamento anticipato Vale a dire ricarica post-pay, bonifico bancario e Paypal Oppure 8 euro con pagamento alla consegna Attenzione, se superate i 50 euro di ordine La spedizione è sempre gratuita Se è il vostro primo acquisto da noi Come prima volta Non potete superare i 100 euro di acquisti Se volete fare il pagamento alla consegna Quindi, massimo 100 euro per il vostro primo ordine Ripeto, con pagamento alla consegna Se invece fate il pagamento anticipato Chiaramente siete liberi di spendere ciò che desiderate Ultima cosa Se decidete per il pagamento anticipato Nel momento in cui Facciamo il totale della vostra merce Quindi chiudiamo il vostro pacco Chiaramente il pagamento deve arrivare entro le 24-48 ore al massimo Non di più Non dopo una settimana Non dopo 10 giorni Noi non lavoriamo in questa maniera Altra cosa Vi diamo la possibilità di fare i cambi Organizziamo tutto noi Chiaramente il costo è a vostro carico Ma non sostituiamo la merce in saldo E non effettuiamo rimborsi Per agevolarvi nei vostri acquisti Ci siamo ormai inventati Ma già da diverso tempo Il fatto di farvi tenere un pacco aperto Dall'inizio alla fine della settimana Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che Noi inizio settimana Cominciamo con la pubblicazione dei nuovi articoli Su Facebook e Instagram Poi facciamo le tre dirette del martedì Mercoledì e giovedì Quindi vi diamo la possibilità di vedere tutto ciò Il venerdì e sabato Ci dedichiamo alla chiusura dei vostri pacchi In che maniera? Semplicemente vi contattiamo su Whatsapp Vi mandiamo il resoconto tramite foto e prezzi Di quello che voi avete ordinato E organizzeremo la spedizione Da quel momento in poi si chiude il pacco E tutti i pacchi fine settimana partiranno Ok? Io credo di aver detto tutto Carlo sta a fare le grandi manovre Che stai a convire? Carlo dietro la consola Che stai a fare? Va bene Ragazzi abbiamo superato le 200 persone Benvenute a tutte Prima diretta della settimana Quindi Ce ne aspettano altre due Domani e dopodomani Quindi martedì mercoledì e giovedì Io partirei con il primo outfit Anzi no Prima del primo outfit Spieghiamo un attimino Come funziona il contest Ragazzi Tutte le ragazze Tutte voi che condivideranno Questa diretta Nei vari social Quindi chi più condividerà Avrà la possibilità di Entrare a far parte di un sorteggio A fine diretta Quindi intorno alle 19 19 e 15 E mettiamo in palio Questo regalo carinissimo Composto da un poncio Catenina E pantalone blisse bianco Abbinato Quindi ragazze Condividete Perché a noi ci aiuta a crescere Ci aiuta a farci conoscere E voi potete vincere questo bellissimo premio Ragazzi Vai con il primo outfit Eccoci qua ragazze Prima posta del giorno Eccoci qua Vai Silvia Eccoci qua Primo outfit della giornata È composto da una casacchina molto carina Con disegno Un po' a stratti Lettere eccetera E parte finale Con chiffon Allora manichina Già siamo andati nella manichina lunga Scusate Chiaramente il tessuto però è un lurex Là comunque leggero Quindi Già strizziamo l'occhio all'autunno Però in realtà con tessuti leggeri Ed elasticizzati come in questo caso Allora Carlo Vado con le misure Sì Allora Silvia scusami Dimmi Sì Ma facciamo sempre quel discorso Che ci prendiamo un caffè Un paio di minuti Sì 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 Penso le ore 18 Chiuderemo la diretta Per riposare Veramente ragazzi Pausa pipì dai Pausa pipì Devi dire ogni volta così Eh sì Comunque Ci fermeremo alle ore 18 Per un paio di minuti Due tre minuti Giusto il tempo di Bere una cosa Prenderci un caffè Riposare un attimino Ma soprattutto per condividere subito La diretta Visto continuamente Ci sono stati anche qualche problemino Con Facebook In modo tale da essere sicuri Che venga pubblicata Allora partiamo con la casacca Ragazzi cominci con la prima casacca Prezzo 19,90 Perfetto Tessuto dicevo in lurex elasticizzato Ciao Sofia Benvenuta Partiamo da un minimo di 114 di giro seno E arriviamo a 150 Chiaramente tirandolo Sui fianchi invece Partiamo già molto più grandi Perché partiamo da un 140 Perché è morbido Fino a 174 E la lunghezza Grosso modo Questa non è lunghissima Come vedete ragazze 73 cm Più o meno 73-74 Quindi ragazze Abbiamo diverse fantasie Allora Denise indossa La fantasia numero 1 Eccola qui Vedete Sono delle Semplicemente delle Delle scritte Poi abbiamo La fantasia numero 2 Con delle lettere un po' più grossolane E l'ultima La numero 3 Allora 19,90 Ragazzi ripeto Già una manichina lunga Ma il tessuto è in lurex Leggero Elasticizzato Ma comunque Molto Molto leggero Ancora insomma Adatto benissimo Già alle prime Serate Fresche D'estate Tranquilla Giorgia L'importante È averci provato Non ti preoccupare Ragazzi Noi sappiamo già Chi condivide tanto Chi ci viene Chi ci aiuta Sempre Ad ogni diretta Quindi stai tranquillissima Giorgia L'importante è provarci È chiaro che Condividendo sempre Poi magari Qualcheduno Ogni tanto blocca Insomma Non ti preoccupare Già già Allora ragazzi Io mi fermerei un attimino Nel senso Andrei sul pantalone Perché Perché comunque Siamo inizio diretto Andiamo pianino Però presentiamo subito il pantalone Perché è una novità Abbiamo solo due colori Il nero e il blu Giusto? Ok Eccolo qua Aspetta che mi prendo pure il blu Allora ragazzi Il pantalone di Denise È un pantalone È un pantalone morbidissimo È nuovo vero? plasticizzato Nuovissimo La parte più simpatica Più carina È decisamente il fatto di avere quella Quella Sì quella rifinitura in pizzo Come ha fatto vedere Denise Dove vai? Dove va? Dove va? Ma non si vede così In realtà è il suo modo di presentare a me Cioè noi è molto simpatico Veramente Guarda Proprio da tagliasse le pegne 19,90 euro Abbiamo le taglie Per quanto riguarda questo pantalone E due colori disponibili Come dicevo Il nero E il blu scuro Sicuramente più avanti Arriveranno Nuovi colori Al momento questi sono i primi due La particolarità Dicevo ragazzi È il fatto di avere il pizzo Alla fine del pantalone E dalla taglia 48 Fino alla taglia 56 Quindi diciamo dalla 48 50 50 Metti 48 56 Poi ognuno di loro è libera Allora bugi Nero 52 Taglia di Denise Allora Taglia Ok Denise in questo momento Sta indossando una 52 Ragazzi La vestibia naturalmente È elastica Io per esempio In mano ho una 48 E verso un po' Diciamo In un certo senso È un po' come se fosse Un leggings Ok Un pantalone a sicuretta Però tende un pochino più A stringere Piuttosto che Portato modulo Tante volte palazzo Tanti pantaloni che noi stiamo presentando Allora ragazze C'è colori disponibili Nero e blu scuro Dicevo 48 Nero per Oriana La grazie Eh sì si Allora ragazzi Ne prendo un altro 김�abile particolarmente 如果 gesagt classicizzati, un 90 di vita, tizzi che dici? Facciamo 50? 50, ok, che colore Miranda nero? Blu, 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 ce l'hai? Ragazze, le misure della 54 sono chiaramente la 54, ricordatevi che poi quando faremo l'annuncio e vi contatteremo, vediamo, poi ho una 52 per Federica Albanese. Ok, pantalone nero, vita 115, fianchi 125, allora Lara, secondo me siamo intorno alla 52-54, mi confermi solitamente che taglia porti 115 di vita? Facciamo una 54? Mi dai una 52 per Federica Albanese? Allora, Federica Albanese non so se è nuova, è su Instagram, Federica ti devi registrare al 338 2321 430, siamo in attesa del tuo messaggino Whatsapp dove scrivi nome e cognome, se già non ti sei registrata, qualora non ti fossi registrata, per favore messaggino di Whatsapp per poterti contattare, blu 56 per Sonia Consoli. Aspetta, allora, Soricone Anna, nero come? 52. Secondo me tizzi ci conviene segnare tutti, io me li scrivo e poi li provo. Allora, Lazzari Lara? Sì, Manuela, tutto ok per te? Sonia Consoli, blu 56. Eh, lei l'abbiamo messo, ah, Lazzari ha confermato la 54, tizzi. 56, blu, Lazzari come? Nero. Te lo scrivo Federica, eh. Lazzari, ah, Lazzari, 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 Manuela. 3, 3, 8, 23, 21, 4. No, scusami tizzi, ho letto male io, Lara Lazzari. È il nostro cliente, Lara Lazzari? Sì, sì. Lara Lazzari, 54, nero. Chi è quella? Su Instagram invece è Federica Albanese che dovrebbe mandarti un messaggino a momenti, ha detto che, ok, mi puoi ripetere il numero, gliel'ho già scritto. Federica, ti basta mandare nome e cognome e fai parte delle nostre clienti VIP. Carlo, cosa aveva chiesto Federica? 52, nero. Ok. Perfetti, ho già girato il numero. Ok. Io ancora non l'ho ricevuta, ma arriverà un momento. Allora, Lazzari, Rosetta chiede, a me se mi ha messo 136 vita, gli dobbiamo dare la taglia più grande. La 56, sì. Che colori preferisci, Rosetta, il blu o il nero? Tanto sono molto elasticizzati, ragazzi, quindi è vero che ci sono le misure, ma è vero pure che hanno molta morbidezza, molta elasticità, quindi sicuramente ci aiutano tantissimo nella gestibilità. Ok? Confermami, Rosetta, se preferisci il blu o il nero. Aiutaci, così lo mettiamo subito davanti. Allora, Federica Albanese ha detto che ti ha inviato il messaggio. Vedi un po' qui? Sì, eccola qui, ricevuta. Allora metto un ok. Perfetto, Federica, benvenuta in questa diretta di vendita. Da qui, da questo momento in poi, potrai confermare i tuoi capi semplicemente con un messaggio su Instagram. Ti ricordo che noi ci vediamo, ci sentiamo solitamente il venerdì con le nostre prenotazioni. Ti ricordo che potrai comprare in diretta il martedì, mercoledì e giovedì. Sono i nostri tre giorni di diretta. Il mercoledì svuota tutto e il giovedì di nuovo con Denise e Carlito. Io gli ho già mandato anche la schermata delle modalità di pagamento, così l'ho agevolata. Non ricordo, mi sa che non mi ricordo. Monica, non ricordo se c'è qualcosa. Adesso vediamo. Ma forse qualcosina, Monica, però devi aspettare. Allora, amiche, vi ripeto anche il nostro primo outfit, la casacca 19,90. Non vi dimenticate. Esatto. 19,90, guardate che bella. Era indossata da Denise. Fantasia numero uno, morbida, non gigantesca, ragazze, non una vestibilità fino alla 60, ma una bella vestibilità. Poi, fantasia numero due e l'ultima fantasia che è la numero tre. Esatto. Vi ricordo che è fantasia autunno-inverno 2022, ragazze, attenzione perché questa è la nuova collezione. E noi andiamo avanti con il prossimo outfit, il numero due. Allora, Michela Cagliazza, il prezzo dei pantaloni con il pizzo sotto che abbiamo fatto vedere poco fa è di 19,90 euro. Disponibili in blu scuro o in nero. Hanno le taglie dalla 48 fino alla 56. Ah, io ho messo fino alla 58, allora ho sbagliato. Ah, vabbè, ma tanto, grosso modo, non è un grande problema perché comunque la vestibilità è talmente buona che... Allora, vi pone attenzione perché qui partiamo di nuovo con un nuovo outfit, partiamo con la collana, molto particolare. Avvicinala. Che carina, guardate che carina, molto particolare. Questa è sempre la nostra amica, eh? E chi è? Frida. Frida, bravissima. Quella che ha lei, io qui non vedo, sbaglio. 19,90? Quella che ha lei. Aspetta che te lo confermo su. Sì, no, 19,90. Vedete cappellino, borsetta, profumo. Carina. Allora, abbiamo un pantalone nero per Giovanna De Luca, 52. Giovanna, non è nostra cliente, credo, no? Allora, lei, no, non è nostra cliente. Ragazzi, per poter acquistare nella diretta, lo ripetiamo un'altra volta, dovete prima registrarvi al nostro numero whatsapp, scrivendo il vostro nome e cognome. Dopodiché potete cominciare i vostri acquisti. Allora, Giovanna, siamo in attesa del tuo messaggino whatsapp. Ti scrivo il numero 338 23 21 430. Su whatsapp scrivi semplicemente nome. No, ma già l'ha fatto lei. L'ho mandato adesso, ma? Brava, Giovanna. Non so se si legge Giovanna o Giovanna, comunque brava perché ho già ricevuto. Allora, benvenuta Giovanna, perfetto. Mettiamo il tuo ordine, pantalone nero, taglia 52. Nostra amica nuova si chiama De Luca. Allora, Giovanna, condividi, mi raccomando, questa diretta per poter vincere l'outfit in regalo. Vi ricordiamo, ragazzi, che per tutti coloro che condividono questa diretta avranno una possibilità di vincere a fine diretta, ore 7, 19 e 15, il nostro contest. Allora, iniziamo con la casacca. Allora, Enzo Antonazzo chiede, collana, Enzo, dimmi. La vuole, la vuole, la vuole. Non lo so. Sì, perché l'abbiamo già presentata a 19,90. Ma non trovo l'altra. Stava messa sull'altro outfit. Ah, l'altro outfit, ok. Perché quella è. La vogliamo far vedere? Ma la bambolina qui c'è. Forse ce n'era una sola di questa. Non mi sembra. Ma là le ho tolte tutte? Eh, non lo so. Vediamo. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti. Non è un problema. Tanto se stanno gli outfit la faremo vedere tuttavia, non c'è problema. Allora, Enzo ha preso la collana. Benissimo. No, quella bimba. Non fa niente, non fa niente. No, sono diverse. Ragazzi, voglio farvi vedere anche la mia collana che è nuovissima. Mi dici il prezzo, Deni? 14,90. 14,90 con i cagnolini in bassotto. Molto carina. E c'è disponibile anche in questo colore. Molto carina. È arrivata questa linea particolarissima con il cagnolino in bassotto con i colori del marroncino oppure questi qua del viola. Sono solo due. Molto, molto carini. I cagnolini sono solo due. Sì. Sono due. Buon pomeriggio, ragazzi. Allora, casacca, outfit numero due. Attenzione. Allora, parliamo con il prezzo che è di 19,90 euro. Come vedete ragazzi è una casacchina. Mi piace questo pedale. Con il nodino laterale. Aspetta perché questo è sciolto così. Mia collana Silvia con il marroncino. Ah, con il marroncino. Ok, perfetto. Per Cosentino e Maria Cristina. Grazie, grazie Maria. Collana di Silvia invece per Roberta Cantinotti. Ok, ragazzi, questa è una linea nuova, favolosa. Ci finiamo tantissimo a farvela vedere subito perché è veramente molto, molto carina. Sono cose particolari. Sapete che noi andiamo a cercare sempre le cose più stravaganti, più simpatiche, ma me ne metto un'altra. E con il gatto. Con il gatto. Anche perché sì, non ho trovato il sorcio e allora ho detto faccio cani e gasti oggi. Questine non ha... Rosalba, guardati la diretta. Abbiamo veramente tanti outfit. Allora, ci sono io. 19,90 euro. Casacca con il nodo. Sì, Rosetta, tutto ok. Giro seno. Oltre 160. Oltre, eh. Fianchi. Ragazzi, qui la vestibilità è fino alla 60. Oltre 156 di fianchi. E la lunghezza siamo intorno ai 73 centimetri. Perfatto. Ragazzi, vi presentiamo i colori. Qui la vestibilità, ragazzi, lo vedete anche su Denise, che non si è neanche allacciato alla casaccia. No, la facciate. Eh, però allora faccio in preoccuo qualcosa che ti sei slacciato. Allora, tessuto, chiffon. Come vedete, seppri non ci riesco. Eccolo qua. Allora, nodino laterale. Fiocchino. Allora, colori disponibili. Verde. Bordeaux. Eh, bordeaux, sì. Poi, nero. Anzi, verrebbe da chiamarlo bianco, però facciamo nero. Poi, viola. Il blu. E gli ultimi tre colori che abbiamo. L'ottagno. Il rosa. E il coccio. Grazie, un attimo, che ha una canotta sotto? Allora, sotto, se non è nero... Canotta in cutone. Perfetto. Guardate che bella. Cutone elasticizzato. Guardate l'effetto che bello. Cuscita sopra in modo tale che non si muove e fa da sotto l'este, diciamo così, quindi non è trasparente. Quindi, 19,90. Casacchina con foglioline e fiocchettino laterale. Prezzo con lana con i gatti. Prezzo con i gatti. Sì, caccia. Sempre prezzo uguale? Sì, 19,90. No, 14,90. Allora, questo è disponibile con il gattino, viola. Vedete, in secondi, lo faccio vedere. Io sapevo perché a me hanno colpito tantissimo. Maglietta Bordeaux per l'ordine. Ciao, Nico. Eccola qua. Presa, Nicoletta. Allora, sul marroncino. Ragazzi, guardate che carina. E poi, l'altro... Ah, questo è uguale. Sì, sono... Una un po' più sul marrone e una leggermente più sulla sfumatura, sul nero. E poi la mia che dà comunque sul viola. Vedete? Viola, marroncino e nero. Nicoletta Longhi, maglietta Bordeaux. Fatto. Grazie, Nicoletta. Conferma di chi caccia se vuoi la collana. 14,90 euro. Troppo carine questo qua. Una cosa veramente sfiziosa, anche per cambiare un po'. Allora, Benissa, è rimasta... Ciao, Melissa, buon pomeriggio, ragazzi. Bramatizzata. Anche a chi non abbiamo nominato, naturalmente. Allora, ragazze, rinomino i colori per quanto riguarda la casacchina con queste che sembrano delle foglioline. Allora, Ilaria Floriani dice non si vedono i messaggi. In che senso? Io adesso ti ho visto, Ilaria. Riprova, riprova. Io adesso ti ho letto. Vedi, continua a scrivere, vedi se c'è qualche problema. Allora, ragazze, collana con gatto sfumatura... Certo, abbiamo anche in negozio i capi che stiamo vedendo in questo momento, però ricordati che chiaramente in diretta molte volte finiscono tutti, eh. Abbiamo fuori tutto. Ok. E io a questo punto che mi metto? Mi metto quella marroncina, anche se no si è rimasta senza. Boh, che belle, adesso. Oh, a me le piacciono queste cose sfiziose così, sono troppo carine. Ragazze, è rimasta solo questa. L'ultima con la sfumatura che va sui toni del terra. Eccola qua, molto carina. Ultimo pezzo con i gattini. Allora, ragazze, ribadisco. Adesso vediamo, Ilaria facciamo tra poco anche i miei pantaloni. Non ti preoccupate, appena Denise andrà a cambiarsi, facciamo il mio outfit. Allora, ragazze, vi faccio vedere un momentino. Ciao, Nadia. I colori per quanto riguarda la casacchina. Allora, dicevamo, Denise indossa il verde, poi abbiamo il blu, poi abbiamo il viola, poi abbiamo il nero. Ti sentiamo, ti sentiamo, Ilaria? No, forse prima non si vedevano Ilaria. Adesso ti leggo bene. Sì, sì. No, diceva che ha mandato tanti messaggi, ne leggevamo. Invece adesso li leggo, io li ho letti tutti. Prima no. L'ho visti proprio. Terra, rosa, ottenio, beh, è un pochino a pipistrello, Claudia, sbaglio? Sì, è molto a pipistrello. Ragazze, il giro braccio è molto ampio, perché guardate, siamo minimo sui 60 centimetri. È molto ampio. ok? Ilaria aveva qualche attura. Eccola qua, ragazze, non chiedete il giro, perché da qui a qui il minimo sono 80 centimetri, di giro, di giro, insomma, è una bella larghezza, dai. Allora, la signoranto, abbiamo appena spiegato. È la stessa, hai risalito un messaggio. Ah, hai risalito tutto quanto? Sì, sì, sì. Ok, quindi abbiamo già spiegato. Ilaria avevamo già letto, lei voleva i tuoi pantaloni, però, piano piano, appena finiamo l'out, ti rispondiamo veramente. Adesso li facciamo un primo outfit, 2.1, secondo outfit, ragazzi. Ah, ma tu li vedi? Hai visto? Ma le risposte è che parlavo del pantalone. Allora, il pantalone che indossa invece adesso Denise? Verde di Denise per Claudia Calligaris. Ok, ok, grazie, la verde di Denise. Ah, la casacca però sta parlando, la casacca, sì, sì. Perché ha detto la verde. Sì, va benissimo Claudia, a posto. La verde di Denise è tua. Allora, allora, quanta donne? Signora Anto Barone, per acquistare da noi deve registrarsi, prendi la perra, Sabina Lamarca Terra, deve registrarsi al nostro numero whatsapp, il nostro corriere SDA, spediamo in tutta Italia, 6 euro pagamento anticipato, 8 euro pagamento alla consegna. Ci sono delle regole, superati 50 euro di ordine, spedizione gratuita, se è il suo primo ordine, non può pagare in contanti, superati 100 euro di ordine, e tutto qua. Anto, ti basta mandarci un messaggino, nome e cognome, e ti mandiamo subito, le varie politiche, per poter comprare. Stanno arrivando un sacco di pacchi, stanno consegnando oggi. Allora Carlo, passiamo al pantalone che ha Denise, allora, con maniche, con taschina, e arricciatura, proprio sulla tasca. Allora, il prezzo è di 14,90 euro, il girovita mi parte da un minimo di 88, e arriva ad un massimo di 144. Perfetto. Poi, per quanto riguarda invece i fianchi, partiamo da un minimo di 128, e arriviamo ad un massimo di 170 circa. Comunissimo. Diciamo che non ho voluto tirare più di tanto, perché già la vestibilità è piuttosto ampia. Oggi è arrivato il mio bambino giallo. Viviana Perritano ha mandato un messaggio, non so se si è registrata, oppure ti ha chiesto qualcosa in privato. Viviana Perritano. Forse si è registrata. Sì, esattamente. Benvenuta Viviana, da adesso in poi puoi acquistare, con un semplice messaggio di WhatsApp. C'è la 48 pantalone Oriana Traficante, questo non ha taglie se non sbaglio, no? Non è risalito il messaggio. Hai risalito il messaggio, dici? No, Oriana Traficante. Ah, eccolo, lui di 48. Questo è un maleditta che sta concentrato. Sì, sì, Oriana gliel'abbiamo dato. E lei se lo ha detto. Se non sbaglio la prima. No, non penso, perché è lo stesso messaggio. Allora, ragazzi andiamo avanti. Allora, colori disponibili. Vai, vai. Vai, vai. Che fai? Allora, nero, blu scuro. Poi abbiamo color coccio e tortora. Allora, considerate che abbiamo la taschina con ricetto sulla taschina. Voglio quello come Denise, dice, quindi è un altro 48 nero. Che non è 48, ragazzi, la taglia è unica. Sì, esatto. Quindi pantalone con taschina. Ma Oriana va bene questo? 48. Ma Oriana, sì, di solito lei prende le cose morbide, quindi poi questo si adatta molto facilmente, quindi non c'è problema. Allora, Traficante lo vuole nero glielo dai. Poi c'ho Silvietta che vuole quello verde di Denise. Silvia Giacoglia, sì. Ci metto verde. Ragazzi, i colori, ripeto, blu scuro, nero, color coccio e tortora. Eccoli qua. Eccoli qua. Elena, anche per te i colori dei pantaloni sono questi, eh. Anche il blu è molto bello, ragazzi. Uno dei colori, ultimamente il blu sta andando tantissimo. tantissimo, perché si abbina benissimo con i colori che stanno andando ora. Tortora, persone consi. Tortora. Vi faccio rivedere un momentino. Ragazze, 14,90 euro. Ah, le misure, eccole qui. L'ho rimesso, l'ho rimesso. Giro vita 88 fino a 144, fianchi da 128 a 170. Quindi, ragazze, vestibilità comodissima. Chiaramente, chiaramente è un tessuto elastico. Quindi si adatta facilmente, anche se è una taglia unica. Quindi, ragazze, andate tranquillissime. Io credo che già a partire da una 48 in su, dà essere benissimo. Quindi, chiaramente, più, più, Roberta Peccato, li volevo, color scotch. Mannaggia, Roberta. Sì, sì, tanto l'abbiamo fatti vedere. I tuoi sono pure venduti, pure la casacca. I vestiti che sono arrivati sono tutti stupendi e cazzo, una meraviglia. È ufficiale, mi serve un altro armadio. Va bene, Maria. Adesso metteremo anche un mobilificio. Però solo gli armadio. Per me il colore coccio, per Elena Braglio, su Instagram. Braglio. Sì. Nostra cliente. Attenzione, noi abbiamo Braglia. Vedi un attimo, Elena Braglio, se non è nuova. Elena Braglio. Sì, Pantarone Nero, anche per Maria Cristina Vitale. Elena. Che colore vorrebbe coccio? Dico esattamente, Broglio, con la O, su Instagram. Elena Broglio ce l'abbiamo. Sì, sì, è già una nostra cliente. È già cliente. Ottimo Elena, lo mettiamo da parte per te. Allora, nero ne hai un altro o si possono ordinare, sì? Nero si possono ordinare, 27, sì. Allora, Nicoletta Eppoliti, Eppolito, ah no. Allora, Olbia blu, c'è per Olbia? Sì, vedo un altro blu là. Olbia nico. Sì, sì, il blu ce n'ho due anche qua, non so perché. Pantalone nero, me soffersa, di chi era. Ah, Maria Cristina Vitale. È blu, eh? Ok. Allora, io intanto, Carlo, ti dispiace, faccio il mio outfit, perché già qualcuno la chiede. Questo, a particolar attività, in questo momento di pausa, che Deniso si sta cambiando. Cioè, il fornitore. Un po' più piano Deniso, perché devo prestare questo, è molto lenta. Allora, caldo attenzione. Allora, pantalone nero e verde per Antonella Criscioli. Ciao Antonella. Scusa. Le foto, non so se abbiamo messo le foto già di nuovo arrivi. No. Ancora no, questa sera, domani. No, verranno pubblicati o questa sera o domattina. E abbiamo anche un pantalone biu per Michela, piccolo. Nero e verde. Oh, prendi per questo tanto. Un altro nero per Roberta Rosati. Nero e verde, lei. Criscioli, nero e verde. Esatto. Poi hai un blu per Michela Piccolo. Aspetta, è lei. Un blu. Io c'è pure una gliaclistina vitale. E un altro nero, c'è un altro nero. Nero, Roberta Rosati. Allora, Roberta, sì. Nero? Ma di Elena Villa che dice quando mettete... Ah, ok, è una lega. Elena, l'avevo già signata, vero pure. Elena, chi? Elena di Instagram. Sì, sì, c'era lì, l'avevo scritto lì, giusto. Questa è arrivata adesso. Lo puoi dare nero. Ma era nero, era nero. A piccoli, sì. Broglio lo devi mettere ancora a bella. Elena Broglio. Allora. Che aveva confermato. C'è la nero. Eccola. No, hai già cliente. È coccio. È coccio, sì. C'è la nero. Allora, piccolo. Michela. Broglio. Ok, perfetto. Ciao, Debbie. Vai con il tuo outfit. Allora, Carlo, la canotta costa 16,90 euro. Giroseno, 100, scusami, e arriva un massimo di 130. Ma quanto si allarga sta canotta? Non pensavo. Anche oggi, Nicoletta, facciamo vedere qualcosa, eh? Poi, fianchi, 106, e arriviamo a un massimo di 140. La lunghezza, naturalmente non sono molto lunghe, è di 63. Il prezzo è trattato? 19,90. 16,90. 16,90. 16,90. Per questo, per quanto riguarda la canotta. Sì. Allora, tizia, adesso ti ritornano, perché se no mi danno fastidio. Allora, invece, per quanto... Sì, jeans dovremmo avere qualcosa, me la Cristina, però... No, perché gli outfit sono tanti, non lo so se c'è qualcosa in scaletta. Abbiate un po' di pazienza, così vediamo. Credo di che ci sia qualcosa, comunque, sì. Allora, mentre invece il pantalone che indosso io, che è in tessuto in raso, con una culisse, se la vedete, è bella elasticizzata, un po' effetto plissier, è di 24,90 euro. Ci sei era? Allora, pantalone con culisse, 24,90 euro, in raso. Giro vita, parte da un minimo di 76, e arriva a un massimo di 114. Fianchi, fino a un massimo di 148, ok? Il prezzo, dicevamo, è di 24,90 euro. Ok, vai con i vostri ordini, ragazze. I colori disponibili sono ottagno verde, poi il nero. Guardate, ragazze, è molto carino, un po' effetto palazzo, naturalmente. Lo potete portare bello calato, un po' morbidoso. E l'ultimo colore, che è quello che indosso io, vale a dire questo ciclamino viola, insomma, molto carino. Quindi, quattro colori a disposizione. Silvia, le cose più pesanti quando iniziano arrivare? È natali pian pianino, è una cosa che arriva in modo graduale, insomma. Si parte dal tessuto leggero, manica tre quarti, poi manica lunga, poi pian pianino si comincia con un po' al cosina, un po' più pesante. Però ci vuole ancora un po' di tempo, insomma. Non abbiate fretta, perché ancora fa caldissimo. Forse non in tutte le zone d'Italia, però, insomma, siamo ancora ad agosto. Quindi un po' di pazienza. No, a piedi. Allora, Michela Paglia, pantalone nero per lei, quello che porti tu. Michela Paglia, nuova. Io non ricordo, ti dico la sincera verità. Ah no, è la signora che si è registrata prima della diretta. Ok. Credo di averlo già letto il nome, controllo. Michela Paglia. Sì, perfetto, Tiziana, si è registrata la signora Michela. Ok, perfetto, perfetto. Grazie signora Michela per il suo primo acquisto. Allora. Perfetto, ci siamo. Ragazzi, qui sono i pantaloni che indosso io. Se qualcuno è interessato, li lascio qui. Così potete vedere tranquillamente i colori disponibili. Allora, Anna Sampogna, scusami, si chiama Sampogna, vorrei farvi vedere le casacchine, quelle ha detto con i fiori, sicuramente sono le ultime che abbiamo presentato. Sì, prenderà sicuramente queste. Allora, io ho soltanto il viola, il blu, il nero, l'ottanio, poi il rosa e il nero di nuovo. Vabbè, già ve l'ho fatto vedere. Eccolo qua. Questo per quanto riguarda le casacche con le foglie, come le abbiamo chiamate noi prima. Ok? Perfetto. Ok, attenzione, andiamo avanti con il nostro quarto outfit. Questo è avanzato. E' un pari qui. Hai capito, con le scarpe pure belle, brillanti, bianche. E' brillanti, insomma. Sono nuove. Mi metti due brillantini, qualche cosetta, insomma, no? Dove? Che ne so. Da Glovo, sempre? Devo di dove a comprare. Eh, sì. No, non si fa pubblicità occulta. No, ho detto piazza e mi ha scelto cazzo. Ho detto... Piazza Italia, dai. Piazza Italia. No, lei ci è uscita un'altra cosa. Mi ha detto... Vedi dove hanno i nostri soldi? Noi lavoriamo. Ok, allora, passiamo al nuovo outfit, partiamo dalla casacchina in, credo che sia una viscosa... Ragazzi fate attenzione, vi avevo già messo le misure, ve le ridò. Maria Cristina, questo è per te. Vai, Silvia. Allora, ragazzi, adesso stiamo passando al nuovo outfit, composto da questa casacchina in viscosa elasticizzata, molto leggero, il tessuto chiaramente non pesantino, insomma, già manica lunga, però comunque sempre tessuto leggero. 19,90 euro, nodino laterale, una cosina un pochino più sportiva, giroseno, vediamo un po', questo pure è grande, è a 140 fino a 170, il tessuto è molto morbido naturalmente, 130 come fianchi e arriviamo a 160, la lunghezza è di circa 70 centimetri. Quindi, la canotta che indossa Silvia, cioè nera, fucca, verde e rossa, giusto? Sì. Guarda, eccoli qui i colori, sì, chiaramente anche la mia in vendita, perché l'ho messa adesso prima della diretta, quattro colori a disposizione. Allora, andiamo avanti, colori della casacca, vedo che sta indossando Denise, chiaramente il blu scuro, il colore che ha proprio lei, poi color sabbia, verde scuro, bianco, ottaneo, il, come lo chiamiamo oggi questo, lo chiamiamo viola o lo chiamiamo ciclamino? viola, dacci solo un colore e basta. Per noi questo sarà sempre viola, quando arriva quello più scuro, tipo quello là dietro, c'è problemi però. Ah, io me ne vado. Fatto. è nero, ecco qui, questi sono tutti i colori di questa casacchina, ripeto, è una viscosa elasticizzata, morbidissima, un tessuto comunque fresco, anche se già parliamo di una manica lunga. Si, allora io volevo vedere se era manica lunga, quindi già manica lunga, però elasticizzato, nodino laterale, eccolo qua, carino, e nero per cacià, eccolo qui, canotta nera per cosentino, quindi la mia allora. Ok, mi sono problemi, mi metto un'altra cosina, allora, va bene, intanto, netta mia, assunta carnicino, è nuova? Non ricordo, perdonatemi, ragazze, io purtroppo non ricordo tutti i nomi a memoria, perché ormai siete tantissime, carnicino, io non ce l'ho. Allora, signora carnicino, per acquistare da noi, deve prima registrarsi su whatsapp, altrimenti non accettiamo le prenotazioni da persone che non si sono registrate, questo è il nostro modo di lavorare, ok? Allora, detto ciò, collana, guardate che bella, 19,90. Allora, assunta per registrarti ti basta scrivere nome e cognome sul numero whatsapp che ti ho appena inviato, blu per Anna Pantaleo. Aspetta, Maria Cristina Vitale, che colore era? Allora, Vitale, allora, marrone per Maria Cristina Vitale, sabbia, poi c'è chi c'era dopo, blu per Pantaleo. Anna Pantaleo, blu e nera e blu per Pasqua, l'inemma, Cagliazza Ferrara. Cagliazza Ferrara, vetti solo, dai. Anna, e nera e blu per Cagliazza Ferrara. Pantaleo, Anna, blu, questa è De Silvia. Cagliazza Ferrara, blu e nera. La devo ordinare? Sì. Blu? Blu, già ne avete presa una? Ah, ok, allora, sì. Poi per Vitale, un'altra, se ce l'abbiamo, di sabbia. Potremmo sempre prendere la prenotazione. Ok, Maria Cristina Vitale. Allora, aspetta. Allora. Dimmi quando è. Dimmi il, dopo mi dici il fornitore. Allora, Antonella Favale scrive, mettiti quella verde Silvia, la verde con i pantaloni fucsia. Spaccala. Ah, 27. Eh, non ci ho pensato, sai, hai ragione. Troppo tardi però. Allora, Cagliazza la voleva nera e blu. Ok, io credo che ci siamo, poi secondo me, nera e blu. Nera però ce l'abbiamo da? Sì, comunque... Blu. Poi c'era? Poi c'era Maria Cristina Vitale, voleva sabbia. Sabbia ce l'ho data, Maria Cristina Vitale, no? Sì. Ok. Poi c'era Antonella Favale che dice, mi metti quella verde Silvia, la verde con i pantaloni fucsia, spacca? No, 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 quella che voleva che io me la indossassi. Era un consiglio che mi stava dando per fare l'abbinamento. Ok. Sì, sì, a posto Maria Cristina, tutto ok. Pantalone blu che indossa prezzo. Allora, va benissimo, ragazzi. Dobbiamo dirlo ancora quello. A me è rimasto come casacchina il colore verdone, poi il bianco, l'ottanio e il viola. Ok? Questi sono i quattro colori rimanenti. Per quanto riguarda invece il pantalone, allora il pantalone è disponibile, chiaramente nero, non fate caso che qui non è adesso visibile, ma il nero lo prendiamo sempre le prenotazioni perché questo è un continuativo, quindi nero, blu scuro, poi colore nuovo questo pece, 19,90, poi abbiamo il verde Gucci, taglia unica, questo ti do le misure, poi il fucsia, il bianco e l'ultimo colore che è il color jeans. Ok? Quindi ragazzi abbiamo due, quattro, cinque, sei, sette colori a disposizione perché oltre a questi che vedete qui c'è anche il blu scuro che indossa Denise e il nero che va prenotato. Allora, sì, a questo punto sì, allora, colori disponibili, ok, allora, scusate, no colori disponibili, volevo dire misure, allora, giro 19,90, la Lori è una nostra cliente? No, non lo bloccava, ok, allora, 90 fino a 140, ma non commentate per favore, non commentate per favore, sì, vabbè, arrivano una 52, 54? Assolutamente, questi arrivano una 56, 58, maria, paia, allora, vita, allora, fianchi, iniziamo dai fianchi? Eh no, io l'avevo detta vita, però voi chiacchierate, disgraziati, maledetti, allora, ricominciate, perché hai detto prima che mi vorrei. Allora, 88 fino a 140, questo me lo ricordo. Allora, vita, 88, 140. Ma cosa l'hai detto? Non ammazzo, quanto l'ho, c'è un fanno che svento. Vai, vita, ti si vede, vuoi levarti? Ma ne vai, ma no, non si vede, sono tristezze. 120 di, che stiamo a fare, fianchi, 120 fino a 160. Perfetto, beige per Sogna Dimitri. Ma me l'hai giusto? Sì. Sì, sì, te lo do, ragazzi, il beige può essere riordinato. Colore jeans per Maria Cristina Vitale. Ragazzi, anche il blu scuro e il nero sono tutti riordinabili. Il jeans scuro chi l'ha preso? Te lo sei fregato già? No, il mano. Ma ecco, ah, perché è vero, l'altra versione non c'è. L'altra versione non c'è. Ah, ok. Ok. No, la maglia. No, è... La maglia. Esatto. Mio pantalone verde e blu, quello di Denise. Quello invece è Maria Cristina Vitale. E lo indosso senza lavarlo. L'ho scritto già, Maria Cristina. Sì, l'ho scritto da posto. Antonella Favale. È inglese della Pantalone o anche il Pantalone? Quindi ho fatto il completo. Nero per Roberta Perfetti. Allora, ti ricapiti, io faccio la ricapitolazione, ok? Che ce ne sono un bel po', ok? Allora, Antonella Favale. Verde e blu. Chi? Antonella Favale. Il pantalone che indossava Denise. Allora, aspetta che lo devo scrivere. Antonella Favale. Favale, Anto, verde e blu. Aspetta che lo devo scrivere più, eh. Allora, qua già ve lo ho qua, tanto me lo metto subito. Non mi lavo queste. Blu, poi. Esatto, poi Roberta Perfetti nero. No, c'è. Non lo prendo, non lo prendo. Sì? Poi Anna Pantaleo blu. Fatto. Ok. Luigina Magurano ce l'hai Carlo? Jeans per lei, color jeans. Jeans per Luigina Magurano. Adesso detto direttamente dalla nostra speaker, Silvia. Annalisa Laureti non è nostra cliente, giusto? Vediamo se si è registrato. Nero e blu scuro per questa nostra amica Annalisa Laureti che si deve registrare. Allora, Perfetti lo vuole anche blu, eh. Ah no, no, Annalisa Laureti è già rettissima. Perfetto, nero e blu. Laureti? Laureti, Annalisa. Sì, 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 tutto a posto. Annalisa Laureti è già una nostra cliente. Poi c'è Marilena che ci dice, ah, nero e blu. Poi c'è Marilena Camarrana che ci dice, ciao Silvia, posso vedere la casacca viola con le foglie? Mi sono collegata adesso. Certo Marilena, 19,90 euro, vestibilità molto grande però, eh. Fai vedere pure la collana azzurra dopo. Fino alla 58,60 euro, questa con le foglie viola. Ah, Carlo, che serve? Eh, c'è scritto, fai vedere la collana azzurra, qual'è? E qual'è? Allora, Maria Artina, però mi devo registrare, come devo fare? Maria, ti scrivo il numero, 338 23 21 430, scrivi nome e cognome e sei registrata. Chi è? Maria Arpaia? Arpaia. Abbiamo avuto il gioco. Vabbè, intanto segniamolo con il punto interrogativo, lo vuole, jeans blu e verde, il pantalone. Esatto. E' verde? Sì, e poi c'era anche la Elisa Franca Marino, l'avevi segnata? Eh, pure lei credo che sia nuova, vediamo un attimino. Arpaia. Arpaia Maria. Maria. Sì. Poi Elisa Franca Marino, io te la do, poi dopo la segniamo, eh. Eh, sì, sì, metti sempre il punto interrogativo. Elisa Franca Marino. Allora, Marino. Ah, occhio che ne sono arrivati un bel po', eh. Elisa Franca, aspetta, dimmi quest'altro. Verde, Elisa Franca Marino. Elisa Franca, conferma per favore il tuo nome e cognome al numero WhatsApp, 338-2321-430. Poi abbiamo per De Palo Monica, beige. Vado in ordine cronologico, eh. Ma Giancarla è... Ha detto che sia già già registrata. Sì, Giancarla? Sì. Lei vuole pantalone nero. Chi? Giancarla. Giancarla, è staccato, eh. Ma dove si è registrata? Che nome? Io non ce l'ho. Allora, Giancarla, ti devi registrare per favore. Allora, l'ho trovata, ferma, 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 ferma. Trovata. Il colore è uscito. Per Giancarla, nero. Poi abbiamo... Trovata. Tutto ok. Vorrei anche il pantalone nero. Anna-Lisa Laureti, lei è già registrata. Non è già cliente. Esatto. Vorrebbe il pantalone nero di pizzo con il pizzo sotto. Questo è un altro. Ah, quello di prima, però ci deve dire la taglia. Allora, posso allora? Allora, un attimo che me lo segno. Laureti. Anna-Lisa. Sì. Nero pizzo, pantalone nero di pizzo. 48. 48, sì. Marilena, questa si è in vendita e l'ultima rimasta a 14,90 euro. Poi abbiamo Viviana. Eccola, Marilena, per te. Allora, lei è una nostra cliente, perritano. Che vuole? Un pantalone color jeans. Perritano, però, già si è registrato. Sì, l'avevamo fatto prima. Prima, prima. Perritano, Viviana, jeans. Esatto. Poi? Poi, c'è Elisa Di Meo dice colori disponibili della casacca. Adesso glieli facciamo vedere. Quale casacca? No, Saretta, non sono i bengalina. Bengalino. Elisa risposta. Ok, Marilena Labboni la collana, invece, conferma. Di Labboni. Ah, la vuole, Marilena? Sì. Marilena, te la do. Ascolta, Marilena, ho visto che tu mi hai scritto anche un qualcosa su una borsa, ma io non ho capito a cosa ti riferisci. Magari scrivimi in privato, così, ok? Marilena, perché non ho capito che mi stai chiedendo della borsa. Ci vediamo. Ok, abbiamo sudato. Saretta, non sono proprio pantalini in bengalina, però in realtà il tessuto è quasi uguale. Però non è quello che noi solitamente chiamiamo tessuto in bengalina, perché questo è in viscosa elasticizzata. Perfetto, Giuliana. Ciao, Carmen. Facco arrivato per Giuliana Motta su Instagram. Che hai fatto? Facco arrivato. Ah, ok, perfetto. Allora, attenzione ragazze, perché passiamo alla nostra quinta proposta. E qui... Allora, attenzione ragazze, perché passiamo alla nostra quinta proposta. Allora, la Marino Franca e Arpia Maria. Io Arpia... Arpaia. Arpaia. Arpia ho detto, oddio signora mia, viscosa. Sì, esatto. Sì, 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 viscosa ragazze, confermo. Ok, allora io non ho ricevuto però la conferma delle due signore, la signora Arpaia e l'altra chi era, perdonami, l'altro nome? Lo dico subito. Marino Franca. Marino Franca. Marino Franca. Allora, signora Marino Franca, la signora Arpaia, se gentilmente mi scrivete su Whatsapp il vostro nome e cognome, altrimenti annulliamo la vostra prenotazione. Ok, a mia donna ragazze. La collana, ragazzi, è nuova, guardate che bella, 19,90. Chi è? Peccate fatto. No, hanno detto che è la collana. Era rosa. Che è? Hanno detto che è bella collana. Forse se me ne sono uscita così, che fa? No, ma infatti tu nasci sempre così, quindi che c'è di strano? Cioè io mica mi sono sconvolta, eh. Eh. Maria Arpaia, non ti sei ancora registrata? Ti scrivo il messaggino, il numero di telefono 338 2321 430. Cortesemente nome e cognome in diretta adesso per poter confermare il tuo primo ordine. Dopodiché potrai ordinare tranquillamente Vita Natural Durante sui nostri social. Eh? Noi facciamola ballare. Secondo me Nando ha caminato. Antonella Favale pretende la collana di Denise, non è perché ha scritto un sgoglio. Cioè, la pretende. Va bene, Antonella, è tua. Però non ti arrabbiare, Antonella. Allora, ragazze, la collana di Denise costa 19,90. Oltre alla color sabbia che è andata via, è disponibile anche in nero, poi in viola e in rosa. Ecco qua. Altri tre colori disponibili. Questo è quel componente, come si chiama? Tipo caucciù, quella gomma morbida, morbida, leggerissime, ragazzi. Queste neanche... Ti metti questa? Che questa sia... Eh? Con le dileme. Collana di Denise, ma nera se c'è per Roberta Rosati. Eccola, pronta, Roberta. Qui ha. Cioè, io lo sapevo che la volevi, infatti l'avevo presa perché... Ma sei notata rosa, c'è? Cioè, tutto è stupendo. Perché viola, no? Vabbè, io te l'ho data rosa perché si avvinava con le rose, però viola pure è bellissima. Eh, ma non mi c'è a secca niente. Eh, sì, i capelli. Ah, sì, c'è a secca. Con i capelli. Con i capelli, sì, e col trucco. Vabbè. Allora, avete le trusse? No, ah, forse le trusse intendono i portatrusse. In realtà ce li abbiamo, li trova pubblicati sulla nostra pagina di Facebook. Anzi, le troverà da stasera in poi pubblicati perché dobbiamo pubblicare tutte le novità. Prendo la stessa maglia di Denise. Proprio quella? Ma non la bolsi, vai. Ok, e questa? Dietro, così. Ah, eccola qui. Allora, presentiamo la casacca che sta indossando Denise. Iniziamo. Questa devi segnarla. 28. Allora. Ciao ragazzi, la prima volta. Sì, Francesca, ti leggiamo. Francesca, pace, mi fate capire se mi leggete. Francesca, ti leggiamo. Se vuoi acquistare, devi registrarti al nostro numero WhatsApp. Scrivendo semplicemente nome e cognome. Il completo di Denise, che prezzo? Adesso te lo diciamo. Eh? Ho detto pace e bene. A tutti i fratelli, sì. Allora, il completo di Denise, che prezzo? Adesso lo diciamo subito, ragazze. Ho perso il meno. Ah, ecco. Allora, Carlo, la casacca di Denise, che è in cotone, leggero, fresco, fresco, mandina già lunga, 19,90. Giroseno, molto ampio, perché partiamo da 140 e arriviamo a 170. Fianchi, partiamo senza tirare da 130. Se tiriamo, arriviamo a 170. La lunghezza... Spossa un attimo sta collana. 73. 73. Mi confermate, dice Emanuela Bonza. Che sì, dobbiamo confermare, Emanuela? Perché sto uscendo, lo dico ora. Sì, è già presa. Ah, lei vuole tutto il completo, praticamente? Sì. O solo la maglia? No, solo la maglia. Solo la maglia. Ok, va bene, confermato. Che era, 28? 28. Allora, ragazze, casacca in cotone, 19,90. Adesso vi facciamo vedere i colori. vi ho messo le misure. Grazie, signor Esther. Mentre Denise pelucchia la collana. È rilassante. È, perché è tipo in cauccio, insomma, quella gommina morbida. Salute. In cauccio? Vabbè. Che tristezza sta battuta. Ebbè. Vabbè. Sei la regina delle battute. Non ce l'ha fatta. Io, lei l'ha fatta, mica io, io non ho fatto niente. Allora, ragazze, la fantasia di Denise. Che quello è? È una base verde militare, quella di Denise, vero? Sì, è verde. Poi me la canto e me la suono. Grigia. Ma so contenta di questo. Poi rosa malva. Che bella questa, però. Cavolo. Questa è proprio bella. A me piace rosa malva, bellissima. Questa, per sé, è bellissima. Poi, questo violetto, chiamiamolo viola. Tanto non lo è, però noi chiamiamolo quello qua. Sì, sì, pubblicheremo anche le cinture. E poi, sì, sì, da stasera in poi pubblichiamo tutto. E poi questa che credo sia un blu. Poi come la vedete questa? È blu jeans, ok. Quindi, ricapitoliamo. Blu jeans, poi viola, rosa malva. Questa abbiamo detto grigia. E la verde militare che indossa Denise. Questi sono i colori disponibili per questa casacchina. 19,90 abbiamo detto. Una bellissima versibilità. Maglia grigia per Loretana Lorenzini. Perfetto. La grigia, eccola qui. Ragazzi, è un tessuto morbidissimo. Un bel cotone morbido morbido, molto elasticizzato. Una manichina, diciamo, un tre quarti. Non è chiaramente pesante. Quindi, ragazzi, è ottima per la mezza stagione. Arrivano, arrivano anche gli abiti eleganti, ragazze. State connessi. Sì, pian pianino, ragazze. Abbiamo una scaletta. Blu jeans per Viviana Perritano. Brava Viviana. Eccola qui. Pronta? La tua era venduta? Sì, perché è stata venduta subito a... Ricordo il nome. Manuela Buzzi. Manuela Buzzi, sì. Allora. Musica. Rosa Maldolo e Francesca Piaggioni. Rosa Malva e anche Rosa la voglio anch'io per Antonietta Sarcina. Sarcina. Si è registrata la signora Sarcina? Non lo ricordo. Io vado a tenere per donare le mani a toccare di niente. Allora, la signora Arpaia Maria si è registrata, ok? La signora Arpaia Maria, quindi... Confermiamo l'ordine, allora. Perfetto. I tre pantaloni? Erano i tre pantaloni non li vorrei? Arpia, no? Potremmo potremmo aprire. Ah, Arpaia. Arpaia? Sì. Tre pantaloni, esatto. Perfetto. Rosa la voglio anch'io, Antonietta Sarcina, però non sappiamo se la signora Sarcina si è registrata. Allora, la signora Arpaia si è registrata. Sarcina mi sembra di nominare i cognomi. Eh? La smettete di nominare i cognomi. Sarcina Antonietta? No, dice no, che non si è registrata. Sarcina Antonietta Sarcina. Allora si è registrata. Antonietta Sarcina? Cioè, il piatto è una nostra vecchia cliente, una nostra vecchia conoscenza. Signora mi conferma che è stata già cliente in passato? Ah, c'è un fatto di genove. Che si, che era già registrata. Ah, ok, perfetto. Allora, quella l'abbiamo chiamata Rosa Malva, quella va Biagioli, eh? Questa è Viola, eh? Questa l'ho chiamata Viola. Quale l'hai chiamata? Quella è Rosa Malva e questa è Viola. Allora lei vuole la Rosa Malva, la devi segnare? Sì, due sono che vogliono. La Rosa Malva la voleva Biagioli e Antonietta Sarcina. No, Biagioli ce l'aveva. Esatto. Devevi segnarla per Antonietta. Arpaia vorrei anche il beige. Perfetto, grazie Maria. Però di che cosa chiedo scusa? Di questa casacca? No, il pantalone. Ah, quello di prima. Qui sono quattro pantaloni. Quattro pantaloni, ok. No, giusto per capire perché... Allora, lo metto, eh? Allora, signora Maria Faia, sono quattro pantaloni nel totale. Noi ne abbiamo segnali quattro per lei. Ok. Allora, Carlito. Vai, dale. Allora, io ho adesso un pantalone, quello di Deniso. Anzi, diciamo, chiamiamolo leggings. Vai. Non pantaloni. Nuova collezione, vero? Nuova collezione, esattamente. Prezzo 12,90 euro. Ragazzi, 12,90 euro. Taglia unica. In tessuto, guardate ragazze... No? Che pace? Sì, Maria, tutto a posto. Maria, in paglia. Guardate ragazze che tessuto carino. È un misto di tessuti. Prezzo 12,90 euro. Abbiamo diversi colori disponibili, tra cui il bordeaux, il nero, il grigio scuro, il color marrone scuro, panna, fucsia e blu scuro. Tu tenisci questo qua, vero? Sì, perfetto. Quindi è quello che già è disponibile. Allora, taglia unica. Giro vita. Partiamo da un minimo di 90 e arriviamo a un massimo di 156. Ragazzi, vi ricordo che questo è un leggings, ok? Quindi una vestibilità, diciamo, aderente. Poi, giro fianchi, 124 fino a 170, chiaramente, tirandolo. Ragazzi, attenzione alle indicazioni, così come ve le do. Perché? Perché vi fa capire da quanto parte il tessuto fermo fin dove può arrivare tirandolo. Roberta, non essere insidiosa e fastidiosa, non ti faccio vedere niente. Vuole vedere le borze materasso. Blu e nero per me, Campus. Maira, stanno qua. Intanto li puoi vendere, ok? Maria D'Angelo. Mi sono iscritta su WhatsApp, sono la signora D'Angelo. Sì, sì, signora Maria, io le ho vista, vada tranquilla. La signora Maria, ho visto la sua registrazione. Elisabetta Pedrali, mio marrone di Denizio. Perfetto. Maria Vittoria, invece, vuole il blu. Allora, Pedrali, che colore? Allora, no, Elisa Pedrali, marrone di Denizio. Poi, Maria Vittoria. Eh, lascialo, Laura. Allora, dimmi prima il cognome, eh? Spagnardi, blu. Spagnardi? Spagnardi è nuova, però, ragazzi, giusto? Hai detto che gli hai detto che sì? No. Spagnardi, io la prima volta che ho visto. Maria D'Angelo era. Poi abbiamo Antonella Favale che vuole il rosa. Aspetta, Lello, fammi scrivere ancora questa. Maria Vittoria Spagnardi. Che lo vuole il blu. Ah, però, attenzione, la signora Spagnardi è registrata. Perfetto. Non l'ha fatto oggi, ma è registrata. Favale, che colore? Favale rosa. Vabbè, un'altra cosa. Poi, Fornari, beige, panna. Dimmi il nome di Fornari. Elisabetta Fornari. Scusa, Tiziana, postilla. La rosa scrive Fucsia, non rosa, se no ci confondiamo. Elisa Fucsia, quindi? No, Elisa, Elisabetta. Elisabetta Fornari, beige e panna. Dai, io lo ho qui. Intanto sono tutte e due Fucsia, via. Quelle che non c'è me le lascio qua, me le riscrivo. Poi, Martalone Marrone e Bordeaux per Sara Consiglio. Marrone e Bordeaux. Ce n'è un altro, se vuoi le dito tutte e due. Quanto uno ce l'ha Denise, quindi le puoi prendere. Sarcina ci dice che colore posso mettere con il pantalone e la maglia rosa che ho preso malva? Eh, io direi un panna, tranquillamente. Sì. Poi, Elisabetta Frisson, nero. Leggings nero. Allora, Marita. Elisabetta Frisson. Elisabetta Frisson, leggings nero. Questa è la venduta? Sì? Sì. Aspetta. Poi abbiamo Antonella Favale che vuole Fucsia. Sì, Fucsia, conferma. Eh, infatti, sì, perché l'hanno chiamato rosa, ma in realtà è Fucsia. Poi Sara Consiglio dice, scusate, ho il modem capriccioso. Mi ripeti i colori del pantalone e dei leggings? In realtà ancora si può dire che non l'ho neanche fatti vedere, ragazze, perché siamo partiti in quarta con gli ordini. Allora, mi avvicino. Allora, blu scuro. Come lo dici, eh? Roberta Rosaggi. Fucsia. Sì. Mì, mì. Panna. Dolce moda e nero. Terra. Dolce moda e nuola. Sì. Grigio scuro. Caos caffè. Nero. E bordeaux. Ecco qua. Sono praticamente sette colori, ragazze. Mi metto anche le misure dell'Egnus, ragazze, taglia unica. 12 euro e 90. Ottimo. Ottimo prezzo, ragazze. Il giro vita parte da 90 fino a 156. I fianchi partono da 124 e arrivano a 170. Allora, Daniela Sepe. Daniela Love 74 e Daniela Sepe. Ti piace vincere facile, eh? Ok. Allora. Che scemo. Ma se lo vediamo siamo fregati un'altra volta. Cioè, dimenticiamo un po'. Ah, lo dici tu. No, muove mai. Ma nessuno l'ha ordinato grigio. Terra e nero. Eccola. Terra e nero per Pina Ferrone. Questa è la metterla. Sì. Sì. Mi scopi. Ma perché io ce sto a mettere? Ho sbagliato. Grigio scuro per Maria Arpaia. Grigio scuro e nero. Grigio ce l'hai, ma quello... Pina Ferrone era terra e nero. Allora, aspetta. Sì. Ah, tu me l'hai già fatto. Io, allora, voi mentre finite... Poi Maria Arpaia, grigio scuro e nero. Sì, però fammi mettere quello nella grigio. Gli fai vedere per favore il grigio? Eccolo. Sì, per Arpaia. Grigio scuro e nero. Ma tu puoi anche entrare, però. Vieni qua. Poi, loretana, lorenzina, grigio. Poi, loretana, lorenzina, grigio. Poi, loretana, lorenzina, grigio. Poi, io intanto mi cambio. Poi, io devo prendere in mano? Ma no, ma si vedono, dai. Poi, aggiungi a frisson anche blu. Frisson, vedi, ce l'ho detto. Che piccolo. Ma ragazze, intanto sfido. Guardate che bello questo. Aspetta. Non vieni svinare. Non vieni i colori dei pantaloni. Poi vieni i colori dei pantaloni. Sono colorati andando quelli. Sì, c'è blu. Prendili, prendili e fallili. Aspetta. Serena Delellis, grigio e nero. No, no, Delellis. Grigio e nero. Guarda qui, ci sono due stantelle di potezza. Ma se me le metti tutte al contrario. Non dire così perché, guarda, ti uccido in diretta. Manco se mettessi a posto. No, Federica, abbiamo solo questo modello. Lasciali lì, poi mi li facciate. Poi Silvia Giacoglia, grigio. Ho capito? Silvia Giacoglia, grigio. Eh, allora la mi chiamoglia. Bravissimo. Ragazze, il costo del leggings è 12,90 euro per il metto di misure. Adesso Denise vi fa rivedere tutti i colori sorridendo. No, no. No, no. Come no, no? Ha fatto lì la paletta. Allora, sì, ma il nero vuole questo. Oh, eccolo. Gian Carla. Allora, che dobbiamo fare rivedere i pantaloni? Sì, perché c'erano tanti. Nico, che colore. Allora, Gian Carla e anche Olvia Nico vuole nero. Gian Carla. Ok, facciamo rivedere i colori, Silvia. Io ho rimesso la misura. Olvia Nico l'hai fatto. Sofia Scascitelli, Costo Leggis l'hai fatto. Ci sono la grigia a posto. Denise, impegnate un po', altrimenti ti sospiamo. Brava, Giorgia. Brava, Giorgia. Appesala. Allora. La collana. Allora, non mi impegno. Che collana? Prima voglio Popo vedere. E' una collana. Una collana. Vuoi Popo? Due. Che voglio? Popo vedere. Voglio Popo vedere. Eh. Non c'è sfidato. Guardate che carina con le coronzine. La collana. Eh, volevo dire cose. Una è la nostra croce. Esatto. Corno. Non manca mai. Ci sta sfidando Silvia, eh? Ci sta sfidando. Dice che non si impegna. Chi? Lei? Sì, vuole proprio vedere che fate. Allora, ragazzi, alternativa alla collana di Terenza, vedete? Quella che indossa lei, diciamo, è sulla base terra nera. Invece l'arancio, vedete? Ah, è venduta. Sì, con la collana. Brava, Paoletta. È un completo, ragazzi, che ha quelli lunghi. Sì, Manuela, è un completo. Un attimino, Manuela, adesso arriviamo, eh? Stiamo terminando la collana e poi facciamo il full black. Buona tricone, l'ha presa? Ok. Ragazzi, alternativa. Vabbè, non gliela facciamo indossare a Denise perché veramente sarebbe un cazzo. Poi si stanca, dice lei, a infilare la collana. Si è ammazzata. Eh, dice ero. Con la croce, proprio. Colore arancio, 19,90. Ragazzi, sta collana è per fare i ritivudù, dicono. Sì, sì. Ma tu che ne sai dei ritivudù? Che ne so. E me la levano le mani. Ilaria. Sì, stavolta. Ti vuoi mettere una collana? Aspetta, lasciami. Ma non le va adesso. Ma puoi stare dentro a una diretta senza la collana? Mettite una collana. No, questa è troppo cute. Cos'è? Avete letto che volevo i leggings blu? Elisabetta Frisson. Sì, certo. Sì, fatto Elisabetta. Quanto costa il vestito di Silvia? Maria Rosa, due minuti e lo presentiamo. Questa non la faccio vedere. Sennò va via subito. Qual era? Ah, Alice nel Paese dei Meraviglii. Queste sono belle. Allora, ragazzi, ultima carrellata di colori dei pantaloni, così andiamo avanti perché siamo un po' indietro. Allora, blu, fucsia. Panna, terra, grigio, nero e bordeaux. Ragazzi, li leviamo perché dobbiamo andare avanti. Perfetto. Mi fa paura sta collana. Eh, ma... Allora, però sono troppo belle queste collane che sono arrivate oggi, dai. Allora, questa mi è rimasta, tizi, una viola, nessuno l'ha ordinata di quella di prima? Ragazzi, è rimasta disponibile una viola con le rose. Quello è l'outfit precedente, praticamente. Ok, allora, io direi un attimino di andare avanti. Allora, sesto outfit, adesso lo presentiamo. Ok, presentiamo. Allora, sta bene. Spesso metto la... Longhi, rossi. Allora, Carlo, che cosa? Leggings rosso per Longhi, Nicoletta Longhi. Ok, sta lì, non c'è il problema. Allora, questo è un bel completo. Allora, è un completo composto da casacca, pantalone B6, prezzo 29,90, manica lunga, rose fucsia per Nicoleppa. L'ultimo, eccolo qui, fatto Nico. Allora, 29,90 euro, dicevo il prezzo che è completo. Casacca, ci sei, Carlo? Poi, ghinze rosso per me. Allora, giroseno 130, 146. Ok. Fianchi, 138, fino a 158, scusa, 156, fatto male. Poi, lunghezza della casacca, 7,4. Ok, il pantalone? Pantalone, il pantalone di questo mi sembra che veste tantissimo. Allora, vediamo un attimo. Parte da un giro fiam e da un giro vinta di 88 circa, ma arriva addirittura a 168. 168, incredibile, è veramente molto comodo, mazza. Di fianchi non oso immaginare, oddio, di fianchi arriva più di due metri, perché è plissettato, però ha una plissettatura, guardate da vicino, ragazze, è piccina, è fina, fina la plissettatura, forse è per quello che sembra così ampio, però addosso non sembra, facci caso, non ingrandisce. È a vita alta il pantalone, vero? Sì, sì, assolutamente sì. Allora ragazze, completo casacca più pantaloni plissi a 29,90. Adesso vi facciamo vedere i colori. Vieni, comincia un attimo tu, il primo, sappia, solidifica col pantalone. Sappia, voglio andare veloce perché abbiamo troppi altri. Siamo già in ritardo. Verdone. Sì. Brava. Poi c'è il nero e il bordeaux. E tu indossi, chiamiamolo viola, dai, chiamiamolo viola. Allora, quindi ragazzi, cinque colori a disposizione, ve li faccio rivedere un pochino più da vicino. Allora, che vabbè, chiaramente il nero è anche inutile farlo vedere da vicino. Il bordeaux, vedete anche il pantalone. Poi abbiamo questo bellissimo verde bottiglia, verdone, chiamiamolo così. Il sabbia e Denise indossa, secondo me, il colore più bello, che da me entusiasma tantissimo quest'anno, questa sorta di viola ciclamino. Allora, cinque colori a disposizione, ragazze. Fate pure il vostro ordine. Denise, io direi, fai rivedere la collana perché questa è bellissima. Verdone, perdina, catenazzo. 19,90. Nicoletta Longhi. Allora, Tina Catenazzo e il verdone. Sì. E Nicoletta Longhi quello rosso, invece. No, Longhi vuole sia quello di Denise che pure il rosso. Esatto, sì, sì. Che colore c'ha Denise? Denise ha il viola. Domana, no, consiglio, sì. No. No? No. Però io non trovo la tua catenina, dove sta? Ci dovevamo aprire altri colori. Ah, vedi quel colore? Quella c'è la bambolina di prima. Ah, quindi? Vabbè, la facciamo vedere, non è un problema. Allora si vede che anche la tua c'è dopo, va bene. Ragazze, voglio farvi rivedere. Perché è troppo carina. La collana che indossava Denise... Alice nel Paese delle Meraviglie. È Alice, esatto, nel Paese delle Meraviglie. È stupenda. Il prezzo, ripeto, è 19,90. Ragazzi, abbiamo comprato delle collane veramente meravigliose. Allora, Loredana, Lorenzini, completo verde, cortesemente. E lo devi segnare di 27,90. Completo viola invece per Luigina Magurano. Magurano, perfetto. Quindi verde per Lorenzini, viola per Magurano. Grazie ragazze. Far vedere anche in alternativa un'altra carinissima collana con il blu, che è una bellissima farfalla. Sì, sì, Luigina, bellissima. Stupenda. Sempre 14,90? Questa 14,90. Meravigliosa. Con il blu, Fuxi. Dipinto? Solo quello? Sì. Di blu. Vendu, 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 vendu. Aspettavate la Erika Gallizzi, che caso? Con l'analice solo rosa? Ci chiedono? Ilaria, al momento non ti so dire perché sono arrivate tante tutte insieme. Farfalla, venduta. Dobbiamo vedere se sta... Farfalla blu e Alice per Favale. Esatto, Roberta Cantinotti, farfalla blu. Sì, eccola l'altra Alice. Ve lo dico, ma non la controllo. Sì. Allora, la farfalla è di... Roberta Cantinotti. E Antonella Favale, Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo è l'altro colore? Sì. Ok. Mi passi pure Alice? Alice, eccola qui. Grazie. Ed è per Antonella Favale. Invece, ragazzi, ho trovato un altro colore di Alice nelle Meraviglie con i colori della terra. Alice nelle Meraviglie. Alice nel Paese delle Meraviglie, colori terra. Per sbrigarmi, ragazzi, io non controllare anche le cose. Allora, eccola qui, ragazzi, l'alternativa di colore, color terra. Allora, Alice nel Paese delle Meraviglie, color terra, sappia, insomma, colori calmi. Oh, l'ho trovata io? Guardi te che sei sbogliata. Ah, c'è. Te credo, ti sarà cascata davanti agli occhi. Ma non piangere, l'ultimo outfit. Collana farfalla, solo blu? Paola Trincone, mio terra. Paola, confermami che parli della collana. Sì, sì. Paola Trincone. Marilena invece chiede se quella con la farfalla c'è solo qui, guarda un po'. Perché io qua non ho altro. Ragazzi, io le ho messe le misure, le rimetto, eccole qua. Io Alice Terra, se c'è un'altra. Alice Terra, tizzi, se ti va prendi la mia cosa. Vai. Ilaria Coppola. Che cosa? Ilaria Coppola. Alice delle Meraviglie, terra, la collana. Versione terra. Collana di Silvia per me, Silvana Giacchino. Perfetto, Silvana. Allora, il prezzo della mia è di 14,90 euro. Fucsia, cuore fucsia. Allora, la farfalla è disponibile anche verde, sempre 14,90 ragazze, per Marilena. Sì, per il tuo vestito c'è anche per le mie misure. Quanto costa per forza? Basilica, un attimino perché ancora non siamo arrivati al mio abito. Quanto è il formatore? 27. Vecchini? Completo fucsio. 27. Allora, Spagnardi avevamo bisogno della... Che ho aggiunto? Collana, per caso? Hai aggiunto? Sì, collana. Che hai scritto? È quella, Silvana Giacchino. Allora, Vittoria Spagnardi sì, aveva... Sì, sì, io ce l'ho. Tutto a posto. Allora, Carlo, che dici? Questi vi servono un nero sabbia, tizi? No. No? No? Ok. Ragazzi, allora, qui mi rimane il sabbia e il nero plissettato, eh? Allora, adesso ragazze, passiamo al vestito di Silvia che ce lo stanno chiedendo. Quindi passiamo al nostro settimo outfit. Allora, Carlo, il prezzo del mio abito, ragazze, è di 24,90 euro. Sì, ti abbiamo letto, Tiziana, posso vedere la collana di Silvia da vicino e sapere i colori? Allora, abbiamo già venduta una, adesso ti facciamo vedere gli altri cuoricini. Oggi non stiamo vendendo figliamento, ma accessori. Eccoli qua, ragazzi. Allora, il fucsia si può prenotare, cuoricino con collana a cuoricino. Oppure nero, rosa e grigio. E il fucsia che abbiamo venduto prima, che se volete, ragazzi, è ancora disponibile. Cioè, no, disponibile, ragazze, su prenotazione si possono avere. Quindi, quattro colori per il cuoricino. Rosa, grigio, nero e il fucsia che avevo indosso io prima. 14,90 euro. Ragazze, questa sera continueremo a pubblicare tutte le... Todo. Come? Allora, attenzione, abito Silvia. Ok, arrivo. Ce la faremo prima o poi. Sì, c'è così. Allora, 24,90 euro. La collana. Allora, giro seno. Collana grigia cuore per Maria Marrone. Scusa Silvia. Marrone però, non credo che sia... Cliente? Grigia, grigia. Mi ricordo io, sì. Sì, e io non mi rivolgo più neanche con la mia mamma. Vieni se sei. Sì, sì. Marrone grigia? Vabbè, comunque controlla. No, sai che cosa ha detto Silvia? Mo ti dico. Mi sa che la collana marrone non ce l'ho. Maria Marrone. Eh, Maria Marrone vuole la collana grigia. Ah, 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 ah. Vedi un po'? Marrone Maria. Io me la ricordo. No. Strano. Marrone Maria non è registrata. Ah, sì. Sembrava, ma non lo ho mai sottile. Signora Maria Marrone deve registrarsi per poter acquistare da noi. Sì, c'è il colore oro. Il colore oro c'è della collana con il cuore. Eh sì, ce l'ho in mano, eccola. Noi la chiamiamo rosa perché dà la sensazione che dà su rosa, però in realtà è oro. Confermaci, eh, Maria Cristina, se la vuoi. Ciao, grazie. Allora, Maria Marrone, ho bisogno della tua conferma cortesemente su WhatsApp al 338 2321 430. Sono registrata, dice Maria Marrone. Controlli di nuovo? Ce l'hai un'altra grigia cuore? Eh? Con lana? Grigia col cuore, ce l'hai? Io non ce l'ho la signora Marrone Maria. Se vuole mi manda un messaggino adesso, così mi sale il messaggio su WhatsApp e individui chi è Maria Marrone. E di qua, di Cisterna di Latina, molto vicino, però va bene. Eh, potassi pure perché proprio perché è della zona non è registrata. Maria, mandaci per favore un WhatsApp. Maria Marrone dice sono registrata. Sì, sì, per favore. Ho capito, io non ce l'ho. Se magari mi manda un messaggino anche solo con scritto ciao, sono Maria, io so chi è. Completo blanche plissé. Che giro se no ha? Ragazzi, il completo adesso vi metto le misure di nuovo, ok? Eccole qua, potete leggerle. La ricerca è qui, sì. L'hai letta? Lo sape che dice vola una grigia a pori? Ho scritta. Eh, ok, leggi i messaggi, mi dice. Sul WhatsApp ha detto che ti ho mandato qualcosa. Mi la rendo un po' molto bello. In realtà, sei insolente. Io ho letto il tuo messaggio, non te la do la porta, non te la do. Un agio vorrei che... Oh, fai, me le faccio vedere un attimo queste borgesia. Fanno finita sta storia. Fammi vedere prima il tuo abito, prima, per favore. Però c'è uno che mi chiede una cosa, uno che mi chiede un altro. Io non ci sono capito niente oggi. Allora, io sono rimasto abito Silvia. Eh, sì, abito a casa di Silvia. 24,90. 24,90. Allora, il giro seno, dicevamo che partiva da 116. Aia! Aia, mi aspetta che mi è sfuggito il metro. E mi arriva a 140. Ammazza! Ok, fianchi. Però ragazze, naturalmente, tirandolo, eh. Fianchi 140, 160. Lunghezza. Lunghezza. Dove sta la lunghezza? Era 25. Perfetto, eccolo qua. Allora. Eh, Antonella, adesso lo vedo. La mia è la fantasia numero uno. Confermo la collana oro per Maria Cristina Vitale. Sì, Maria Cristina, te l'abbiamo data. Allora, Roberta, mo te la do la porta. Ti fa finire di chiedermi sta porta, eh. Mo te la do, Roberta. Mo le faccio vedere. La do a te e a tutti quelli che me la chiedono. Allora, fantasia numero uno è la mia. Fantasia numero due sul verde. Poi, fantasia numero tre. Fantasia numero quattro. Fantasia numero cinque. Numero sei. No, Maria, non ti ho trovata. Allora, se mi iscrivi su WhatsApp semplicemente Fai velocissimo. Ci vuole un attimo. Io ti trovo subito e facciamo prima. Ok, Maria? Allora, fantasia numero sei. Ciao, Barbara. Maria, ti ho messo il numero di telefono. Numero sette. Ma lei ce l'ha. Se dice che lei è gestrata ce l'ha. Numero otto. Fantasia numero uno, grazie per Antonella Favale. Antonella, è proprio la uno che devi prendere. Dispettosa, eh. E' la tua? Eh, certo. Io dico, ma tu mettete in un'altra notizia. Ah, Silvia, non le mette lì dietro. Se no vuoi che ti rompiamo l'anima. Eh, c'ha ragione. Non ce l'ha messa io. Ce l'ha messa iniziamo. Numero uno anche per Liliana Bodini. No, 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 non sono ordinabili, ragazze. No, no, no. Quindi, Liliana Bodini e Annalisa Lauretti, non c'è più la uno. Ok? No, ragazze, mi spiace, ma non posso prendere ultimi su questa. Fantasia numero otto per Maria Rosa Serra. E niente, Basilica, non c'è il vestito di Silvia. No, Maria, aiutami, Maria Marrone. Marrone. Così l'ha registrato. Sì, ma ha scritto, eh. Infatti non ce l'avevo. Vestito numero tre per Pina Perrone. Oggi Denise non c'è, infatti. Vedete che non c'è? Dicono che sei, non ridi. Devi ridere, ridi. Sei pure alzata per venire. Sei pure alzata, cioè, ma non mi rendete conto. Cioè, lei stava sbracata lì sulla poltrona. Si è anche alzata. Cioè, no, ragazze. Mamma mia. Cioè, ma mica, Maria Rosa Serralotto ce l'hai dato? Sì, sì. Non ti preoccupare. Sì, ma però qua io mi vado a cambiare. Fai vedere i numeri. Eh, brava, fai vedere i numeri. Renditi utile. Adesso Silvia non c'è. Eh, ma vaga, allora. Ma aspetta, c'ho la collana. Fai vedere pure la collana e mi è rimasta questa collana. Corazon negro a 14,90. Ah, li metto qua. Allora. L'uno, dai. Abito 4, me lo passi? Certo. Emanuela Calamita. Certo. Maira, che te prendi l'uno? L'ho girato, ritirano un po' che mi lascio. Ok. 2. No, 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 no. Basilica, non eri stata tu la prima? Assolutamente no. Ce ne sono state 4 di ragazze che hanno chiesto il primo vestito. Quindi tranquilla, ci pensiamo noi. e 7. Allora, Boldini, allora quello uguale sul marrone. Sesto? Sì. Ok, eccolo per te. Liliana, Bodini. E poi per cui sono 7. Ma come ho dici tu? Sono rimasti gli ultimi 3, ragazzi. Non me li lascio aiutare. Che numeri? 2, 5, e 6. Sì, la cambiate per disperazione, così non mi rompono più. Però dovete vedere che scivolone che ha fatto prima. No, ma non ho capito. Sono scivolata sulle ciabatte mie. Comunque le ciabatte ce l'ho. Sei una ciabattara proprio. Guardate che belle. Sei proprio una ciabattara del globo. Del globo. No, quello, dice Liliana. Allora non ce ne sono più sul marrone. Allora sul marrone non c'è. No, ritorna indietro allora. Ah, quello, sì, sul marrone è quello. Ottanio marrone. Questo? Vedi un po', Liliana, se va bene quello. Allora adesso ritorna in vendita quello lì. Vabbè, ma vado a prendere io, ho capito. Eh, bravissima. Meglio sola che mal accompagnata, si dice a Roma. Se stavo libera, così rimane scoperta la video qua. Anche perché ho accupito tutta la video. Due. Cinque. Sei. Eh, il quattro non c'è più ragazze. Sette. Ripetiamo i numeri. Allora, due. Vai. Due. Cinque. Sei e sette. Ok. Perfetto. Ok. No, 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 aspetta, ancora non l'abbiamo presentato. Vai, appoggiali. Perfetto ragazzi. Allora adesso passiamo col nuovo outfit. La facciamo sfilare sta modella? Curvi? Allora, dove stiamo arrivando? Questo c'è giù? Buono? Buono, buono. Buono, buono, buono. Stefano! Allora, comunque c'è anche questa versione di colore che abbiamo presentata prima, questa collana, eh? Frida. Bambolina, vabbè, Frida, per te pare. Eh, non mi ricordo il prezzo? No, voglio riportare. Non sono 9,90. Magari, pure il 2. Ah, dei dubbi? Sul prezzo. Che cosa? La collana? Sì. Ah, questa era la femminuccia di prima. Che bella quella, pure così. No, Frida ce l'ho là. Eh, non è Frida. No, facciamo, vede pure Frida. No, quella è una tonnina bambola. Di facili costrui. No, allora, vado con la casacca, che? Vai con la casacca. Allora, casacca con cuori in viscosa elasticizzata, 24,90 euro, giro seno, 130, fino a 170, fianchi 140, 180 addirittura. Collana Frida per Roberta Rosati. Va a sentire la collana Frida. Quella abbiamo chiamata noi, l'abbiamo chiamata. Ma non è Frida. No, ma vabbè, il tabulino cosa ce ne frega. Ma no, ma no, però noi poi, per le descrizioni dietro, io ce l'ho, Frida. Come faccio? Senti, Roberta, ti vuoi questa? Ma noi l'avamo già chiamata così. Senti, faccila vedere, faccila vedere. Faccila vedere. Roberta, vuoi vedere? Tu vuoi questa? Noi te la diamo se non la vuoi. Allora, mettiamo collana Tiziana. Ma che Tiziana? Ma che me frega? È perché poi vado in Tizia, capito? Collana a bambola, non è la solita. Allora, Maira. Faccila la collana, non l'hai chiamata mica però. Allora. Ma io non l'ho fatto perché la chiamava Carlo prima. Sì, ma vado io. Fatevi i fridacci. I fridacci vostri. Silvia Giacoglia ti ricorda che Roberta Rosati aspetta ancora di vedere la borsa. Ma porca miseria sta borsa. Ma guarda che siete fastidiosi. Ci metti pure tu, eh? Allora, ora faccio la casacca e poi giuro che vi faccio vedere le borsi. Ora se non ve le comprate tutte tra te Roberta, non ci voggi, eh? Allora, che te manca? La lunghezza. La lunghezza, ok. I fianchi te l'avevo dato qui? Sì. 70. Perfetto. Allora, ragazza, casacca cuore a 24,90. Ecco i colori disponibili. Denise indossa sabbia. Poi abbiamo nera. Ce l'abbiamo ottagno. Color jeans. Che corina pure bianca. Bianca. Total white. Vestibilità fino alla 60, ragazze. Avete visto le misure? Molto, molto abbondante. Blu scuro. E l'ultimo colore, il mio preferito. Quello che non sappiamo come chiamarlo. Se viola, ciclamino, oppure non lo so. Sembra più a risa ai primi di cercare. C'è solo questa, no? Perché ti fai problemi? Eh? Potemeno, eh? No, potemeno, davvero, guarda. Gli fai vedere la frisa, Roberta, ma un attimo? No, ci sta nell'outfit. Aspetta, perché sennò vado in conflitto. Eccola. Eccola. A me pure. E vai. Eh, scusa, eh. Ci abbiamo la frida con la collana nera, con le perle nere. La frida fucsia. La frida verde. Ah, eppure gira di qua. Gira di là, sono tutte frida. Siete qua che di là. 1490, che frida c'avete? Rossa. Rossa. O rosso. Rosso. Sì, rosso. Saper il lusso, siete fantastici. Perché non ce ne conosci bene. È rosso. Mi devi dire il colore, Robè. Nera. Nera, per Roberto. La tua. Anche rossa. Roberto dice frida, quindi abbiamo messo a nera. Ok. Ragazze, verde, fucsia e rossa. Per chi ama frida, ecco te qua. Ecco te la pia. Ecco te la pia. Maria D'Angelo avevo scritto quello che volevo. L'abbiamo vista, Maria D'Angelo? Io non l'ho vista. Frida nera per Maddalena Pagano. Segna, tizzi. Frida fucsia per Monia Tittarelli. No, Monia Tittarelli. Ah, Monia, l'amica nostra. Monia Tittarelli, apriglia. Sì, lo so. Vorrei due pantaloni, quelli larghi. Ci devi dire il colore, Maria D'Angelo. E due vestiti come quello che indossi. Allora, adesso ti facciamo vedere i vestiti che indossava prima Silvia e che sono rimasti. Ma per chi è? Per Maria D'Angelo. E un secondino soltanto. La finiamo un attimo, Frida, perché stanno arrivando un sacco di ordini. Allora, tu dove sei rimasta, Tizzi? Niente Frida, Roberta Rosati. Come niente Frida? Dice così. Allora, Maddalena Pagano ce l'hai, Frida nera? Prende la bambola con gli occhiali. Monia Tittarelli, Frida fucsia, apriglia. Ilaria Coppola, nera. Elisa Petrali, nera. Roberta Sorosati, no, no, prendo la bambola con gli occhiali. Ah, quindi ha confermato quella di prima. Sì, sì, ma li avevamo già messi. Va benissimo. Mi sono persa la presentazione di vestiti di Silvia. Adesso lo faccio rivedere, Ornella, un attimino. Tanto te l'avevano chiesto pure a te, Carlo. Sì. Giù, giù. Giù. Mica giusto, giù. Allora, tu ti ha chiappa di Frida. Ragazzi, qui c'ho Frida rossa, Frida linda e verde. Adesso faccio rivedere l'abito che avevo prima io indosso. Allora, era rimasto, dire, tant'anni tuoi, di cui il culore c'è la taglia per me. Luigina, questa è una small. È più piccina questo pantalone. Allora, numero due. Poi, numero cinque. Numero sei. Allora, Maria D'Angelo, questi sono i colori disponibili. Ok? Poi, lei voleva due pantaloni, quelli larghi. Che significa quelli larghi? Quelli larghi, larghi, avevamo il pantalone a 19,90. Però, ci devi dire i colori. Ma parliamo di questo, probabilmente? Non lo so, che significa larghi, larghi? No, larghi, solo questi abbiamo avuto, eh. Larghi, larghi. Ok. Mano a mano anche nera, tizi. Ok. Io sono curiosa di vedere a bordo un personaggio di ora e sveglia. Adesso ve le facciamo vedere, ragazze. Allora, non so se erano questi i pantaloni, io non lo so, la signora Maria D'Angelo, quale voleva. Eh no, è troppo in ala dire. Sì, dice Maria. Ah, ok. Fagli vedere così li sceglie. Allora, va benissimo. Allora, viola, poi verde e l'ultimo colore che è ottanio. Ok, signora Maria? Confermi per favore il numero di vestiti e i colori dei pantaloni. Sì, i vestiti l'abbiamo già fatti vedere, giusto? Sì. Ok, ci siamo allora. Allora, facciamo vedere queste borse prima di passare la casacca? Sì, subito. Cioè, la casacca al cuore già l'avevamo presentata, però mi sa che non hai fatto vedere i colori. Allora, ragazzi, le borse che tanto ci chiedeva quella disgraziata di Roberta Rosati, faccio proprio nome e cognome, no? Quella è una disturbatrice. E dell'amica Silvia pure, eh? E dell'amica sua, Silvia Giacoglia. Giacoglia. E dell'amica sua. Allora, queste borse sono nuovissime, il prezzo è di 29,90 euro e sono la linea Yu Yang di Enrico Coveri. Chiaramente hanno la tracollina lunga all'interno e sono, come vedete, in tessuto di piumaggio, di piumino, tipo trapuntina. Allora, colore bronzo, poi argento, grigia, nera. Non ce l'hai? Eh, va bene, allora, se ce la vedi mica si offendeva. Poi, blu scuro. Questa la chiamiamo carta da zucchero. Però la modella ce l'ha. Questa è quella che voleva Roberta. Ma se non mi dice che se la prende, io la uccido, eh? Eccola, eccola. No, non è che non li vediamo i due mesi, facciamo proprio i vaghi, non li leggiamo. Ma come no? Sì, l'abbiamo messa. No, 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 ma io gliel'ho detto. Io li leggo, cioè li vedo ma non la leggo, a dispetto. E rossa, ma è rossa o fucsia? Oh mio Dio, è rossa? Oh, ma sembra fucsia. Sì, vero. Sì, sì. Erika, dopo quei disegneri... Scusate, mi sono spostata un attimo su WhatsApp per registrarmi e poi ho avuto problemi di connessione. La diretta mi si bloccava. Va bene, Erika, adesso ti leggiamo, quindi sei di nuovo con noi. Non capisco se vedete tutti i messaggi con l'anna solo, bambola, no frida. Allora, Roberta, abbiamo capito. Se lo scrivi l'altra volta, giuro che te metto frida e te levo la bambola. Chiaro? Ah, è proprio da borsa. E mo' ti prendi la borsa perché se no mi stai sbombardando da mezz'ora... No, sbombardando nel senso con le richieste. Sborzando. E io compro e non te pago. Chi se ne frega, io te spedisco pure. Tanto poi vengo a dormire a casa tua. Borsa, carta da zucchero per Antonella Favale. Allora, Roberta, tu quali colore volevi? Me lo dici o no? Carta da zucchero. No, quella è Antonella Favale che ha scritto carta da zucchero. Roberta, che colore vuole? Non la vuole la borsa. Sì, che la vuole? E lei che mi ha scritto. Sì, voleva solo farle vedere. No, io l'uccido. L'uccido quanto è vero. Io faccio una strage di Roberta, eh. Maria Marrone ritiro il negozio, eh, ragazze. Immaginavo ritiro il negozio. Era di, abbiamo detto, di cisterna. Ok, perfetto. Ganizzi, se c'è ancora vorrei la canotta che ha indossato Silvia in verde. Ma vi chiederei un parere. Ho giroseno 93, rimarrà troppo larga? Che cosa? Giroseno 93. Ma no, io c'ho 98, quindi ci siamo. Ci siamo. No, no, tranquilla. Roberta, lo sai di pure la carta da zucchero. Pure tu, Roberta, sei fastidiosa proprio. Che crediamo? Allora, ci abbiamo due carte da zucchero. 29,90, ragazze. Mo' tutte carte da zucchero. Tu che sta a fare con questa mano? Dimmi il fornitore. Era di chi? La borsa. Erika. 25. Erika Valicci. Posso interno? In che senso? Prezzo borsa, ma non è la messina. 29,90 euro. Yuyang di Enrico Coveri. Questa l'ha inviata qua su Whatsapp. Ero te. E non mi ricordavo un po' che colore mi hai inviato. Non fa la polemica, eh? Che non te la do dopo, cartazzo. Te mando un altro colore. Te la mando blu, eh? Ma praticamente, fa qui, d'arte dentro. Ma chi è questa? C'ha pure la tracolla, eh? Tiè. Ma la devi confermare, non so come si chiama. Ma io sono speciale. No, sei romana, che è diverso. Speciale. Se non c'è la carta da zucchero, prenda la nera. Antonella, dimmi tu, la carta da zucchero la dobbiamo ordinare. Se vuoi la nera sta già qui. Dimmi tu, Antonella. Pertanto queste sono tutte belle. Ma pure blu è bellissima. Pure argento. Anche argento. Pure fucsia o fucsia rossa. Insomma, c'è una più bella dell'altra. Vabbè, chiacchiappatele questo intanto, va? Chiacchiappatele. Allora. Una è per Rosati, una è per Antonella Favale. Antonella, dimmi che colore preferisci, allora. Fucsia. E poi l'ultimo colore, il borse, che prezzo? Allora, le borse, il prezzo è 29,90. Però la vuoi fucsia, Maria D'Angelo, confermami, per favore. No, no, fucsia il pantalone. Ah, questo tuo. Ah, questo qua? Esatto, fucsia. Allora, Maria D'Angelo, il pantalone, questo qui, fucsia viola, giusto? Quello è l'ultimo colore che avevi fatto vedere di quei pantaloni. Perché lei voleva due pantaloni. Che colore era l'ultimo? Eh, guarda, uno era verde, mi sembra l'ottagno. L'ottagno, esatto. Maria D'Angelo, mi confermi l'ottagno? Anche nera, Petrale. Antonella Favale, anche nera. Antonella Favale, anche nera. Ok, la borsa invece ha 29,90 ragazzi. Quindi sono tutte e due le sue. Certo, Antonella Favale ce ne ha due, una nera e una carta da zucchero e i rosati solo. Ma scusate, che colore è carta da zucchero? È un celestino. È un celestino praticamente. È un cenere. Sì, ma nì, no, non lo so. È una via di mezzo tra un greggio e un celeste. No, è nuda che mi dice, amore mio. I micetti non ti faccio vedere. Ma che so sti micetti? Ma che quelli là per te, non so i micetti? Che so i micetti? Non lo so. Ma che so i micetti, Roberta? Allora prendo entrambi, dicendo, Antonella, Manuela Messina, ma scusate che è quella che ha fatto. Allora ha giudicato la canotta verde per Erika Gallizzi. Si, hai giudicato? Perfetto. Borsa rossa per Viviana Perritano. Eccola. Tizia, tu ce sei? Ti serve qualcosa? Gallizzi Erika si chiama? Gallizzi Erika. Eccola la canotta. La borsa rossa di chi è? Perritano. Perritano, sì. Quelli per terra con un musetto. Va bene, ora arrivo e te li faccio vedere. Guarda, Roberta, comunque oggi sono asmi. Adesso mi ho detto che tu so le due i capelli. Allora, io non ho capito i micetti con le borse, con i mostri là dietro. Ok? Bella la tua casacca Silvia, grazie Barbara. Io aspetto la conferma di queste. Com'era il nome della signora? Maria D'Angelo, fucsia e l'ultimo colore ottaneo e poi volevo sapere il prezzo della borsa. Maria D'Angelo, sì. Sì, sì, le borse, argento e viola. Perfetto. Allora, D'Angelo ha confermato questo e poi vuole due borse, argento e viola. Allora, Maria D'Angelo, gentilmente, come dice Carlo, confermami che sono i due pantaloni, uno fucsia, uno ottaneo e le due borse, un argento e una viola. Ci siamo? Confermami se è corretto che al momento hai quattro pezzi, due borse e due pantaloni. Allora, Tina, il materiale della borsa è più mino. È più mino. Sì, sì, come si chiama? Tipo... Che coloro delle borse? Sì, più mino. Impermeabile, gentilmente. Sì, anche impermeabile, sì, effettivamente. Capito, se bagna, se bagna. Ah, ma io il gentilmente lo guardo, no? Se bagna, se bagna. La signora Maria D'Angelo, quando dice viola, intende sempre la fucsia, perché è sulla borsa. Ok? Capito? Si può acquistare in diretta e ritirare il negozio? Sì, assolutamente sì, Vani. Sì, la casacca tua avete presentata. No, Ilaria, ancora no. Confermo, perfetto, Maria, grazie. I due pantaloni e le due borse. Allora. La signora che sta prendendo in giro? No, sì. Sono dieci giorni che chiede la stessa cosa. Ma chi? Niente. Rosalba? Eh. Silvia, so che non è tempo, ma vorrei solo sapere se hai tracolla color terra a cuoio. Bella domanda. Non lo so. Dei pure il naso, Rami. Sai che non lo so? No, ma prendo una presa in tiro, perché è dalla scorsa settimana che chiede la stessa cosa. C'è un viso. E gli abbiamo risposto mille volte che non... No, no, smanicati, over giovanili. Sono le persone sciocche e ignoranti. Allora, che cosa ci chiedevano? Pulizza i denti? Molto spesso che hai mai fatto questa domanda. Come te chiami tu? No, come te chiami? Sai il mio nome? No, non me lo ricordo più. Allora non te tengo le voce. Reggi qua che ti pisto come l'uva. Perché non sono solo grandi? Le piccole? Dietro. Ah, stanno dietro. Ecco perché ti dicevo tieni te. È una guerra però, è proprio una guerra. Ma guarda, è una cosa proprio persa. Anche viola la borza, dice Maria D'Angelo. L'abbiamo già messa. La borza è solo viola. Ne voleva due di borza. Una grigia e una viola. Esatto. Quale è la viola? Non c'è viola, è solo rossa. Non c'è viola. Quale è viola? Eh, sembra viola. Non c'è un sacco, ragazzi, tu fa po'. Allora, anche perché viola non esiste, c'è la rossa. Allora ragazze, ci chiedevano le borzette con gli animali, eccole qua. 11,90 euro, rossa. Borsa imbottita anche oro, grazie per Roberta Rosati. Ok, fatto Roby. Poi, nera, rosa. Questo è uguale, giusto? E nera di nuovo. Allora, quattro colori disponibili, ragazze. 11,90 euro, questi zainetti, ma questi sono zainetti che si trasformano in borze, giusto? Sì. Entrambe le funzioni, perché hanno tutti questi aggacci, quindi fanno tutte e due le situazioni. No, è solo zainetto, Silvia. Eh sì, se la prendo così è pure borza. Ah, sì. Se l'attacco di chiede, zainetto. Se l'attacco al centro è... Eh, infatti. Se mi attacco... Allora, dicevamo, fucsia, rossa, nera e rosa. E rosa, dammi qua. 11,90 euro, queste borze zainetto da bimba, come si chiamano, con le pagliette. Allora, ci siamo? Possiamo andare avanti con l'abbigliamento? Non è che c'è un abbigliamento che ha scarpe basse? Sì. Eh. Il pantalone è cagasotto. Sai che? Sono le 18, è già al momento. Ah, tagliamo... Eh no, aspetta. Eh no, aspetta. Pantalone, facciamo il pantalone. Sì, fate come se ne pare, io l'ho avvisato. Allora, ma questa non l'abbiamo già fatta? No, la maglietta sì, ma dovevi far vedere i colori. Ciao bello, uno sveglietto coniglio rosa per me. Lo prendi tu il coniglio rosa? Sì, è. Allora, chi? Gambino. Allora, casacca ragazze, 24,90 euro. Vi facciamo vedere di nuovo i colori. Melissa e Silvestro, attaccati al tram. Sì, le faccio vedere ora, però adesso facciamo un momento di pausa e poi riprendiamo. La tua ho bisogno di fare un cordiano con il gile che ho da parte. Allora, Narita, devi avere un po' di pazienza perché finiamo ora il pantalone, poi chiudiamo due minuti la diretta e poi facciamo il mio outfit, ok? Allora, attaccati al tram. Chi è? Casacca, casacca. Fai vedere le casacche e poi il pantalone. I colori delle casacche devi far vedere ancora. Ma il colori lo fa a farvi vedere? Sì, li abbiamo fatti, vabbè, facciamoli vedere. Dai, nero. Viola e lei stava qui. Denise ha il sappia, poi abbiamo il viola. Ma zitto te. Sì, abbiamo fatto vedere. Ottaglio, zitta, devi sapere che il problema c'è. Allora, jeans. Oh, sta zitta, non farli mai quando parli rompi. Non posso tutto per l'aria, eh? E tanto capirai, come ne fai di solito, blu scuro. Non vuoi più per l'aria. Capirai, neanche c'è differenza tanto. Sì, le lanci le cose. Allora, poi che c'hai addosso? Pantaloni. Pantaloni che sotto è. Allora, questo è, Carlo, tu dovresti avere delle misure, è il sottotuta. Il sottotuta. Dammi, dammi, dai. Quanto costa? Ma chi? Il pantalone. 16,90. Vai. Cada a me solo. No, 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 no. No, 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 no. Non è il sottotuta. Pensavo che fosse il sottotuta. Invece è 19,90 perché è il pantalone cavallo basso. Che vuoi? La messi tutti? Sì, lo potevi dire, ma mezz'ora allora, mo. Attenzione, cavallo? È il cavallo basso, però poi dopo lo dobbiamo ritornare dopo. Questo come fa, mo, mo? Qua c'è, allora, 19,90. Vai. Cavallo basso. 84. Mai. Fino a 126. Sì. Fianchi. Sì. 128. 164. Perfetto. Allora, colori disponibili. Che si vede? Io. Che ripete? Si vede, ripete, che vi visto tutto è buono. Roberta è tremendo. Allora, il cavallo questo basso, vedi che fa tipo un po' la cosa qui. Allora, il color coccio è quello da Denise che giustamente lei è decoccio, ci abbiamo messo anche il pantalone. Poi, nero, perché c'erano due neri qua, verde scuro, grigio, dai che abbiamo andato a fare la pipì tutti quanti, poi, e viola, perché noi lo andiamo a interrompere la diretta, no? Bordeaux, perché noi ci ha presa la costa, si vede che con il mio stagione, prima andiamo a interrompere la pipì, ma adesso dobbiamo fare la parola pipì, vabbè. Bordeaux, questa cosa io non l'ho capita, comunque vabbè, e color carta da zucchero, una sorta di colore, ma che bassa, poi ci abbiamo effetto jeans, e ci abbiamo uno, due, tre. Allora, uno, due, e tre. Mettila in pausa, non interrompere. No, a noi ci serve per pubblicarla, Luana, perché alle volte qualche scherzetto ci fa Facebook, allora abbiamo deciso di fare questa cosa. Ragazzi, allora, riprenderemo, anche se Denise si cambia, dal mio outfit e da questi pantaloni. Ragazzi, due minuti di pausa, solo per avere modo di pubblicare la prima parte della diretta. A tra pochissimo. Non ci abbandonate, ragazzi, e torniamo tra due minuti di orologio.